Buongiorno, così ci accomodiamo, Daniel che dice ero un bullo però non è ancora arrivato, sicuramente non sarà un bullo, è vero che non sarà più un bullo però non è ancora arrivato, però stava facendo la strada e c'è davanti al salone estense la corsa. Allora io volevo innanzitutto dare il buongiorno a tutti voi per questo incontro particolare che realizziamo proprio per il protocollo che è stato steso e approvato dal nostro prefetto il dottor Salvatore Pasquarello che parlerà lui di questa prima andata. Io spero che poi sarà una cosa che verrà ripetuta magari in altri comuni, in altre realtà per essere vicini a questo discorso di questo disagio giovanile. Per cui volevo però dirvi una cosa, allora premio Chiara Festival del Racconto, leggete i nostri programmi e direi una cosa molto interessante da sentire, sono tutti interessanti però vi devo dire due cose. Il concorso di video making che verrà realizzato qua, la premiazione e il titolo è da un racconto di parole a un racconto di immagine, cioè produrre un video, un docu video, ok, che al massimo sono 8-10 minuti, proprio come sintesi di un racconto di Piero Chiara. Cosa non facilissima, perché non facilissima? Perché produrre un video devi avere le attrezzature giuste, non puoi produrlo col telefonino, ecco, perché è una cosa professionale. Quest'anno siamo riusciti, perché l'anno scorso non sono riuscita a fare la premiazione, perché avevo avuto solo 4 partecipanti. Con 4 partecipanti, diciamo, io come segreteria non sto a fare una premiazione, perché anche se ci fosse dentro, diciamo, il Gesù Bambino, così come io chiamo veramente un video, e la partecipazione è troppo poca. Per cui quest'anno invece ne abbiamo avuti 11, faremo qui, per cui venite a vedere, sarà una cosa interessante. E questo è il sabato 7 ottobre all'ore 17, perché così la sala sarà tutta chiusa, cioè chiusa, buia, voglio dire. Daremo poi, perché ho già fatto un colloquio con Steve della Casa, con il BAF, cioè è giusto che un concorso di questo genere possa essere una parte di cultura di un evento molto importante. Il BAF Film Festival di Busto Assezio è proprio sul film, per cui sarà ugualmente la nostra giuria, in più ci sarà Steve della Casa, però lo diamo già in un contenitore specifico, perché lì sicuramente avrà un'ampiezza maggiore. Stessa cosa, volevamo farla un po' con la Svizzera e con Lugano, però la loro realtà era molto più amatoriale. Io ci tengo a fare le cose di un livello un pochettino più alto, non tanto amatoriale. Venite a vedere, perché quest'anno ci sono delle belle situazioni. Allora, cosa vi devo dire? Vi devo dire, questo poi è un'altra cosa interessante, che faremo, va bene, venite alla finale, che questo è sempre bello, c'è tanta giuria. Venite a sentire il crimine con Stefano Mazzi. Abbiamo avuto l'altro giorno Dario Bressanini, ultra pieno, al Salone Stense, per parlare, fa bene, fa male, il manuale di autodifesa alimentare. Cosa è giusto mangiare, come non essere imbrogliati dalla pubblicità e riuscire ugualmente a vivere bene e a mangiare bene. E poi una cosa particolare è quella tratta con stile il tuo cuore, la prevenzione cardiaca. Si parla sempre del tumore, si parlano di altre malattie, non si parla mai del cuore. Il cuore si interviene sempre come amore, no? Fa parte, ho mal di cuore ma di amore. Il mio cuore non palpita più, ma si vede come amore. Non si vede invece come problematica cardiaca, che è una dell'infarto, è una, diciamo, delle morti più frequenti. Per cui parleremo proprio di come prevenire. Una tavola rotonda, tratta con stile il tuo cuore, sulla prevenzione cardiaca. E poi una mostra importante, al Castello di Masnago, ringrazio qui, abbiamo l'assessore alla cultura, Antonio Bassanini, costruttore del Novecento. Per cui una situazione che è nata da Varese, perché lui aveva una bellissima casa a Varese, che c'era ancora a Sant'Ambrogio, però poi ha costruito molto in tutta Italia. L'ultima cosa, sempre per i giovani, perché noi siamo un pochettino, non lo so, c'è un occhio nella cultura per vedere di riuscire a stare bene con la cultura, perché si può star bene con la cultura. E qui faccio un libro, la presentazione di un libro, che dice, per fare la pace. Non c'è più nei ragazzi, non c'è più anche negli adulti, nei genitori. Facciamo la pace. Ci siamo arrabbiati, ma adesso facciamo la pace. E questo dice, io ti perdono Alex, a volte basta poco per fare la pace. Un bambino che capisce di aver fatto uno sbaglio. Questo è un silent book, vuol dire che è un libro che non ha parole, è un libro che ha solo disegni, è un libro che non è un fumetto, diverso, ha solo dei disegni e possono capirlo benissimo, sia un bambino, diciamo, orientale, giapponese, che è un bambino di tutti gli stati, perché è immediato. E ti dice, un bambino, sul coraggio di un bambino che capisce di aver fatto uno sbaglio. Capire di fare fatto uno sbaglio, voi avete visto anche in certe realtà, diciamo, problematiche, come ci sono state certi incidenti, dove non veniva ammesso neanche la scusa, ho fatto uno sbaglio. Il bambino magari è nervoso, butta i libri tutti per terra al compagno e poi dice, scusami, scusami, ho fatto uno sbaglio. E l'altro dice, Giovanni ti perdono. Per cui è sulla scusa e sul perdono. Il perdonare, anche lì, è una cosa importante. Non tenersi il rancore all'interno, ma cercare e superare questi momenti di conflitto. Allora, aspettavo un attimo la provincia e volevo dirvi due cose su questo incontro. Daniel, che è, diciamo, il personaggio del volume, perché il Chiara è sempre legato a un incontro diretto con dei personaggi, però c'è sempre un volume di mezzo, c'è sempre un libro che è una testimonianza. Daniel vive a Quartogiaro, periferia di Milano. In famiglia il clima è teso, pochi soldi, continui litigi, cresce nei cortili delle case popolari, ama il calcio e in campo è il più forte, tanto che a dieci anni gioca con la maglia dell'Inter. Le aspettative su di lui sono altissime e non vuole deluderle. Ma quando durante una partita Daniel manca il gol decisivo, il sogno di diventare un calciatore famoso è infranto per sempre. Alle medie Daniel è un bullo, temuto da tutti, carico di rabbia, di aggressività. Sente che l'unico carico e l'unico modo di guadagnarsi il rispetto è incutere paura e non temere niente. Neanche di fare un colpo in banca. E infatti lui le rapine arriva a farle per davvero finché finisce al beccaria. Il carcere minorile è considerato un ragazzo perduto, irrecuperabile, a segnare la svolta e l'incontro con Don Claudio, che ho qui di fianco a me, il cappellano del carcere. Daniel viene affidato alla sua comunità che accoglie i ragazzi difficili e lentamente impara a guardare le cose con una prospettiva nuova. Ecco, questo di quello che parleremo oggi. Chi c'è? C'è Daniel? No, non è ancora arrivato. È lui? Ah, allora, avevamo parlato proprio di te, Daniel. Questo è il posto, io mi alzo, lascio la parola al prefetto. Innanzitutto ringrazio, vedete, qui di fianco a me abbiamo Don Claudio Burgio, poi sarà condotto questo evento da Don Giuseppe Opeppe Cadonà di Luino. e il libro è scritto da Andrea Franzoso e era un bullo e Daniel, che non trovava la strada. L'hai trovata? Qua? Non trovo mai la strada. Non trovi mai la strada, no dai, non dir così. Ok, allora la parola a Salvatore Pasparello, al nostro prefetto, che ha avuto un'idea e io l'ho accolta subito, vero? Con amore e voglia. Sì. È un po' il mio modo di fare. Bene. Grazie. 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 Grazie a tutti e altri stiamo seguendo da qualche tempo il tema del disagio minorile. Ricordo a tutti che il 27 giugno in questa prefettura abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa. Siamo un po' tutte le pubbliche amministrazioni che hanno sede nella provincia, a cominciare dagli ambiti socioterritoriali, quindi gli uffici che rappresentano i 136 comuni, perché i sindaci e i comuni hanno un ruolo importantissimo. Ci sono le università. Il protocollo nasce soprattutto da tre figure, da tre pilastri. Una è la prefettura, l'altra è l'ATS dell'Insubria. Saluto il dottor Presutto, che è il direttore sociosanitario. E l'altro pilastro è l'ufficio scolastico territoriale. Saluto il dottor Carcano. E naturalmente poi tutti gli altri, le forze dell'ordine, sport e salute, che è un ruolo importante per impegnare i giovani nel tempo libero. Le due diocesi, quella di Milano e quella di Como, quindi tutto quello che si può fare tramite gli oratori per star vicini ai ragazzi. E poi in particolare c'è anche l'Associazione Ragazzi on the Road, che come sapete è quell'associazione che dà l'opportunità ai ragazzi di trascorrere qualche giorno, qualche fine settimana, con le forze dell'ordine, con il 118, con i Vigili del Fuoco, per fare un'esperienza dall'altra parte, nei panni di chi lavora in questi settori. E così si accorciano le distanze con i più grandi. Si capisce che dall'altra parte non ci sono delle persone che vogliono, come dire, il male dei ragazzi, ma sono invece delle persone che pensano anche a loro nel loro lavoro. Sul protocollo poi non mi vorrei soffermare, perché vi posso poi indicare dove è possibile reperirlo, ma naturalmente moltissimi di voi già lo conoscono. Invece volevo cogliere l'occasione per dire che vedo con piacere anche un legame con un'altra iniziativa che come Prefettura e come tanti altri soggetti qui presenti abbiamo affrontato a maggio il discorso del carcere e lavoro. Abbiamo tenuto un convegno anche qui con la Camera di Commercio e tanti altri soggetti, proprio per favorire la conoscenza di quelle norme che consentono agli imprenditori di assumere detenuti o ex detenuti e favorire il loro reinserimento nella società. Ci sono i benefici della cosiddetta legge smuraglia che tantissimi non conoscevano e anche qui c'è stata un'occasione di approfondimento, di informazione e sono grato a tutti coloro che hanno voluto ascoltare i relatori del convegno che si è tenuto a Villeponti con le conclusioni di uno dei sottosegretari al Ministero della Giustizia e c'erano anche dei parlamentari, quindi anche per eventuali modifiche normative. In quell'ambito abbiamo registrato anche la partecipazione di tanti soggetti che si stanno impegnando, vedo anche qui i rappresentanti dei Lions, ci sono state anche altre associazioni e soprattutto gli imprenditori, i sindacati con la consapevolezza di lavorare su questo tema. Naturalmente il mio è solo un saluto introduttivo, un benvenuto a voi tutti, però sono anche io molto ansioso di ascoltare i nostri ospiti e quindi do la parola a Don Beppe e a Don A per il coordinamento di questa iniziativa. Benvenuti ancora. Io prima di dialogare anche con Don Claudio e con Daniel che ho conosciuto proprio in loco perché abbiamo passato insieme un anno, 2012-2013, proprio al Beccaria come cappellano. Ero il seminarista che veniva mandato dal seminario e Daniel condivideva un po' l'esperienza e mi piacerebbe sapere dal prefetto, conoscere anche un po' da dove è nato questo protocollo, se posso sapere un po', così lo diciamo un pochettino a tutti, e soprattutto se sono stati fatti dei passi dal 27 giugno in poi che un po' hanno dato vita a qualche buona prassi che è stata già introdotta, che sta, ho letto della patente sullo smartphone, leggevo questo non è amore, diamo voce agli studenti, qualche, così possiamo anche rendere note quali sono state le iniziative che sono parti da questo protocollo. Da dove è nato? Io sono arrivato qui a marzo del 2022 e subito ho cercato di conoscere i rappresentanti delle istituzioni su questo territorio, in particolare i sindaci, però non potevo conoscerli uno per uno, sarebbe stato difficile, allora con i rappresentanti delle forze dell'ordine, quindi con il questore, i due comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza e con il comandante dei Vigili del Fuoco mi sono io recato in cinque comuni, i comuni che sono sede di Compagnia dei Carabinieri e lì ho invitato i sindaci a partecipare a delle riunioni, in queste riunioni abbiamo parlato di ordine e sicurezza pubblica e di protezione civile. Ecco, in questi incontri tutti i sindaci nei loro interventi mi hanno detto quali erano le problematiche più ricorrenti e tra queste il disagio minorile. Ecco perché io poi ho preso a cuore il tema e mi sono reso conto che i sindaci che hanno diretti contatti con le proprie comunità e che quindi percepiscono per primi quali sono le problematiche emergenti, mi avevano sottolineato un tema rilevante e da qui è nata la mia azione per coinvolgere sempre più soggetti che per lavoro si occupano del tema, ma anche tantissimi altri soggetti che invece sono interessati di riflesso e quindi dopo un po' di tempo abbiamo fatto varie riunioni fino ad arrivare a questo protocollo. Devo dire che un ruolo importante l'ha avuto anche la Regione Lombardia che ha preso a riferimento questa iniziativa, l'ha riportata in una delibera di giunta regionale e ha dato mandato alle ATS, alle agenzie di tutela della salute di tutta la Lombardia di promuovere un piano di azione che andasse anche a finanziare dei progetti specifici sul tema. Ecco, ripeto, qui c'è il direttore sociosanitario dell'ATS che ha predisposto un piano di azione che ha cominciato anche a portare i primi frutti. Ora abbiamo a ottobre un'assemblea plenaria proprio per verificare i primi risultati. In pratica ci sono dei finanziamenti che la Regione ha messo a disposizione di tutto il territorio lombardo e in particolare ATS Insubri è stata la prima a predisporre questo piano di azione che finanzierà dei progetti per Varese e per Como. Poi ecco, dicevamo, ci sono all'interno del piano diversi progetti già concreti. C'è quello che lei citava sul patente per lo smartphone che verrà ripreso anche quest'anno e che secondo me è un progetto molto interessante perché come noi prima di metterci alla guida di un'auto andiamo alla scuola guida e quindi impariamo come si guida, quali sono le norme del codice che dobbiamo osservare purtroppo quando i nostri giovani, i nostri ragazzi si cimentano con il cellulare e nessuno li istruisce soprattutto sui rischi che sono nascosti e quindi sono grato al dirigente dell'ufficio scolastico, c'è qui anche la professoressa Boracchi che insieme a un'altra professoressa di un'altra scuola stanno portando avanti questo progetto e che cercheremo quest'anno di diffondere come dire a tappeto perché una delle insidie come si diceva prima viene proprio dall'uso distorto del cellulare e poi ci sono tanti altri progetti che sono anche inseriti però ecco dicevo sono tutte occasioni che avremo anche in seguito per farli conoscere a chi ha interesse soprattutto durante l'anno scolastico che è appena cominciato Si cita spesso nel protocollo il coinvolgimento degli adulti, si parlava di questo incontro collegiale leggevo un po' nel protocollo che è stato siglato dove si cerca di coinvolgere appunto i genitori e tutto e rileggendo il libro di Don Claudio ho trovato due frasi che mi hanno fatto un po' riflettere su questa cosa perché si dice sempre che siamo in un momento di vuoto dove i genitori e Don Claudio diceva in due punti molti adulti hanno rinunciato a progettare un mondo migliore e l'altra frase che mi ha fatto riflettere è che ci si libera dall'impotenza educativa quando si abbandona l'io autarchico di chi vuole fare da solo il protocollo mi sembra che vada in questa direzione abbandonare quell'idea dove faccio io, ognuno si occupa della sua piccola cosa e costruire rete dall'altra parte sembra un pochettino che molti adulti appunto rinunciando a questo compito in fondo dopo noi vogliamo coinvolgerli, vuoi che ci siano gli incontri e tutto il resto poi ti rendi conto che la partecipazione è un po' così, sempre limitata e allora mi piacerebbe chiedere a Don Claudio come vede questa cosa e soprattutto come oggi imparare a scovare questi adulti perché in fondo il rischio è poi che ci siano quelli che si iper preoccupano magari dei propri figli o delle situazioni ma chi invece dopo ha situazioni problematiche in verità sia un po' sempre latitante Bene, buona giornata e dunque dietro i ragazzi del Beccaria individuo due figure di adulto fondamentalmente un po' generalizzando dalla parte da una parte l'adulto che non c'è chiaramente questo è già nell'immaginario collettivo quindi il genitore assente l'autorità assente anche dal punto di vista proprio del mondo delle istituzioni dall'altra parte e faccio un esempio per esempio a Milano il quartiere di San Siro dove le istituzioni hanno rinunciato si sono rassegnate non sono assolutamente presenti in nessuna forma dall'altra parte invece un adulto eccessivamente presente troppo protettivo un adulto che si sostituisce ai ragazzi quell'adulto che si aspetta aspettative esagerate che imposta il proprio rapporto educativo in una forma prestazionale per cui è un bravo studente un bravo figlio se produce risultati quindi c'è una ribellione molto spesso in atto nei ragazzi negli adolescenti in modo particolare di fronte a un sistema che li usa e li getta insomma li usa come parte di una aspettativa continua del mondo degli adulti questi due estremismi questi due poli generano appunto tutta quella serie di disagi nella fase della transizione adolescenziale che poi sconfinano anche in comportamenti devianti e allora che cosa occorre fare? Bisogna ritrovare l'adulto per adulto intendo non solo la famiglia ma intendo la scuola il mondo delle istituzioni il rapporto con le forze dell'ordine il rapporto con chi in qualche modo governa perché l'adulto da una parte non si assente ossia solo schierato in una forma di esclusione o comunque di giudizio netto ma dall'altra parte non ci sia un adulto eccessivamente presente di chi in qualche modo non intercetta per nulla la sofferenza o comunque anche i desideri di questi ragazzi di chi sostituendosi promuove progetti calati dall'alto faccio sempre un esempio a San Siro, Milano non è che in questi anni ci sia stato apparentemente il vuoto assoluto tanti bandi, tante cooperative che hanno speso le loro energie hanno intascato anche dei bei finanziamenti i finanziamenti durano quello che durano finisce il finanziamento e finisce tutto e allora questi interventi a spot questi interventi legati semplicemente alle economie vengono vissuti dai ragazzi come un tradimento come una incoerenza dell'adulto ci sei finché c'è il finanziamento fondamentalmente e allora è chiaro che questo sistema di fatto non ha portato a nessun vantaggio ad alcun vantaggio questo quartiere per esempio di San Siro perché gli interventi calati dall'alto con bandi predisposti da tecnici che non hanno mai avuto un rapporto diretto con i ragazzi sono bandi calati dall'alto una cooperativa aderisce naturalmente per ricevere finanziamenti però di fatto poi i ragazzi sono assolutamente lontani ecco questo è il rischio nelle amministrazioni cioè il fatto di non intercettare davvero i ragazzi e allora ci si deve chiedere quali sono gli attori veri quelli che si sporcano le mani in un territorio quelli che davvero sono con i ragazzi e forse quelli vanno finanziati quindi immagino il mondo del terzo settore immagino anche il mondo degli oratori oratori che vivono una profonda crisi adesso a parte Don Beppe ma il problema è sinceramente un problema reale da voi però qui a Varese per esempio io non so come lo giudicate perché anche io conosco poco però sono stato in visita a questo oratorio centrale un progetto un po' innovativo un po' sperimentale della diocesi per iniziativa credo dei par cioè comunque dei preti che poi sono quelli che ci credono ma non ci credono a volte però quando sono andato mi ha stupito ritrovare un sacco di ragazzi adolescenti che conoscevo e che mi conoscevano perché sono ragazzi passati dal beccaria passati dalle mie comunità ragazzi che in qualche modo so vivere un disagio di crescita e mi ha stupito il fatto di ritrovare una quarantina di questi adolescenti in un oratorio centrale della città di Varese happiness la cosa mi ha molto sorpreso ma poi informandomi non so se è vero ancora ma ho chiesto ma chi è che vi sostiene e lì puntini puntini ecco perché secondo me è proprio lì che noi dobbiamo intercettare quali sono i veri attori quelli che davvero sono quei ragazzi adesso io ripeto non so se poi la cosa è andata avanti se ci sono stati dei finanziamenti anche pubblici eccetera all'epoca quando ho visitato questo oratorio ho capito che era sostenuto solo dalle parrocchie e anche con qualche dubbio da parte di alcuni parruci perché sembra che sia un tradimento dell'identità dell'oratorio ecco attenzione a questo perché o gli oratori si aprono alla realtà o se no finiranno per essere vuoti e allora è chiaro che non li si finanzia neanche più allora questa è una cosa interessante quindi come mettere in rete che figura di adulto che mondo istituzionale deve girare intorno a questi ragazzi beh sapere intercettare quelli che davvero questi ragazzi li incontrano tutti i giorni aprono le proprie porte per accogliere il mondo della scuola indubbiamente che va sostenuto in maniera esemplare non bastano gli insegnanti e non bisogna sempre pensare che sia colpa degli insegnanti se poi le cose non sempre vanno ma certamente il mondo della scuola necessita di interventi di finanziamenti per favorire la presenza di pedagogisti per esempio perché non basta lo psicologo uno per mille alunni insomma bisogna investire in educazione se no dopo arrivano i decreti un po' più repressivi che sono anche legittimi sono anche tutto sommato una risposta un po' dello Stato davanti a certi fatti che sconvolgono l'opinione pubblica però sono anche un po' forse ostaggi di una ondata emotiva e che quindi non arrivano poi a risolvere del tutto i problemi perché non bastino asperire le pene adesso poi ascolteremo Daniel ma non basta lo spauracchio del carcere di una cella di un carcere minorile per impedire a questi ragazzi che stanno male di non delinquere per cui il vostro territorio per quelle che sono le mie conoscenze è un territorio estremamente a rischio confermo io ho avuto forse i ragazzi più difficili e ne avuti tanti al Beccaria e anche da me in comunità arrivare da queste zone a questa provincia penso in un quartiere di Mallate per esempio quanta gente quanti ragazzi ci siano in totale isolamento solitudine sono i ragazzi che poi magari si raggruppano intorno a queste forme di gang in questo caso 167 eccetera eccetera poi la musica fa da contorno a queste cose ma il vero problema è che intorno a certi quartieri soprattutto di case popolari poi si annida chiaramente il crimine e allora dopo è tardi dopo è tardi allora un conto è un decreto che che dice ok bisogna guardare il fenomeno del disagio minorile della criminalità intervenire e questo direi è un segnale quindi giusto che il governo dà ma poi è chiaro che il problema è prima prima che un ragazzo arrivi in cella il problema è quando un territorio deve decidere per esempio su chi investire e dove investire i propri soldi e allora ecco secondo me ultima cosa che dico chi sono gli attori beh terzo settore tante persone che si dedicano quotidianamente a questi ragazzi e poi i ragazzi stessi questo è spesso sottovalutato perché si pensa che in fondo i ragazzi sono solo fruitori passivi di decisioni prese dall'alto e invece la cosa che io ho scoperto lavorando soprattutto in questo periodo nell'ultimo anno in questo quartiere a Milano di San Siro è interessante capire come invece i ragazzi siano risorsa e vadano in qualche modo coinvolti in maniera attiva proattiva e responsabile quindi a volte è anche giusto interpellarli e chiede di cosa davvero avete bisogno nel quartiere di San Siro dove i crimini sono all'ordine del giorno la cosa per me sorprendente che molti di questi adolescenti ci hanno chiesto è aiutateci a tornare a scuola aiutateci a studiare io non me lo sarei mai mai veramente aspettato una richiesta del genere e devo dire che non è stato facile trovare presidi e insegnanti che siano andati incontro a questa aspettativa ne abbiamo trovata una formidabile a San Siro una grande preside che secondo me poi dà energia a tutto il mondo scolastico cioè quando trovi quelle persone lì danno un esempio una forza e diventano una testimonianza vivente insomma dove allora il mondo scuola ritorna ad avere un carattere educativo fortissimo ecco lei ne ha presi 15 ragazzi difficili poi insieme abbiamo li abbiamo aiutati nel tempo dello studio eccetera comunque sono stati promossi tutti tranne uno quindi non è una cosa da poco allora ecco allora secondo me capire anche dai ragazzi che cosa si aspettano perché i ragazzi non sono così incompetenti non sono così assenti semplicemente anti istituzionali a volte vanno semplicemente resi un po' protagonisti della loro crescita quindi ecco io direi che bisogna saper intercettarli e ottenere fiducia ma la fiducia oggi non è che qualcosa che si genera con l'autorità in senso dispotico come se fosse esercizio solo di potere il comando di chi ti ordina di stare tranquillo ma questi ragazzi ascoltano ancora una testimonianza un'autorità che arriva dalla testimonianza di adulti che ci sono che sono presenti che sono effettivamente per loro bravo passando a Daniel mi verrebbe proprio da domandare a partire dal libro che hai scritto prima Bambi l'ha presentato ha detto due parole ha letto un po' la prefazione mi viene proprio da chiederti appunto nella vita che adulti hai incontrato lei diceva appunto che la svolta è stata l'incontro con Don Claudio che cosa hai trovato che cosa sei riuscito a comprendere da quell'incontro e soprattutto adesso che fai tu l'educatore quindi ti occupi tu di accompagnare ragazzi in comunità cosa ha significato far tesoro della tua esperienza e un po' con le cicatrici andare a essere guaritore di chi adesso accompagni tu buongiorno a tutti per me è un po' l'adulto ideale che stava di cui stava raccontando Don Claudio adesso ho fatto un discorso molto generale molto preso dall'alto però in effetti io sono partito nella mia adolescenza da una sfiducia totale verso gli adulti che che vedevo come nemici come ostacoli nella mia vita che pensavo non servissero a niente e l'unico modo che avevo di rapportarmi con loro era quello dello scontro quello della provocazione perché si vede che comunque sia in origine il rapporto che io ho avuto con la mia famiglia piuttosto che in generale con gli insegnanti la scuola è sempre stato un po' così poi diciamo che attraverso il carcere attraverso un pezzo che comunque sia è vero che devono fare gli adulti e che in questo momento qui non riescono a vendersi come adulti di cui fidarti adulti credibili ecco e a parte questo io comunque sia ho avuto il mio pezzo che è stato un po' quello del carcere è stato quello della sofferenza è stato quello delle domande che mi sono fatto di fronte a un dolore di fronte a una a una condizione in cui non ero libero perché comunque sia il carcere fa soffrire il carcere ti fa domandare un sacco di cose poi c'è chi riesce a farsi le domande e c'è chi non si riesce a farle allora lì parliamo di un'altra cosa però rispetto a me cioè io mi sono fatto un sacco di domande e allora lì ho capito che avevo bisogno per vivere queste domande e provare a darmi qualche risposta avevo bisogno degli adulti e allora ho incominciato un po' per bisogno un po' per necessità anche un po' per curiosità perché io arrivavo da una scelta di vita che era quella del delinquere che era quella del potere dei soldi di insomma di fare una vita facile che non mi aveva pagato fino a quel momento e mi è come se mi sentissi vuoto non c'era niente che mi riempiva e allora appunto attraverso il carcere questa mentalità qua ho detto no forse devo provare qualcos'altro perché sono andato fino in fondo in questa strada e ho visto che non mi rende felice insomma e allora tutte queste domande incominciato prima a farmale da solo e comunque sia erano anche molto difficili perché 18-19 anni farsi queste domande dentro un carcere non è facile e poi ho incominciato invece ad appoggiarmi agli adulti un po' per necessità un po' per usarli come spesso racconta anche Don Claudio che alla fine i ragazzi all'inizio si avvicinano in modo strumentale ti vogliono usare in qualche modo e allora io ho trovato forse avuto la fortuna di trovare degli adulti validi in questo quindi si sono fatti avvicinare si sono fatti usare e poi piano piano ho incominciato anche a fidarmi perché poi fondamentalmente per un ragazzo ha bisogno di fidarsi e allora lì ho incominciato ad ascoltare e quando ascolti ovviamente cambi perché ti arriva un'altra visione della vita che fino a quel momento lì non avevi neanche contemplato cioè per me chi andava a scuola chi non so ascoltava i genitori piuttosto che faceva lo sport fatto bene aveva una vita regolare con i suoi impegni per me erano sfigato no? e invece chi si metteva contro le autorità chi andava a rubare piuttosto che viveva una vita di eccessi allora per me quella era una persona degna di stima è un po' quello che c'è adesso non è che è cambiato molto no? e quindi invece io ho provato fino in fondo la vita sregolata e ho visto che non era per me e poi successivamente ho detto proviamo a buttarci in questa io che pensavo che fossi uno sfigato e in realtà era una vita dove cioè pensavo fossero sfigati quella vita in realtà ero io lo sfigato che conducevo una vita del genere e stranamente tutto questo tra i vari adulti tra i vari riferimenti che ho avuto me l'ha fatta capire un prete l'ultima persona che io avevo pensato che mi avesse fatto capire una cosa del genere quindi per me Don Claudio è stato l'adulto e anche un po' quello da cui ho preso ispirazione quello da cui poi io l'ho guardato e ho scelto poi di iscrivermi anche a scienze dell'educazione perché sentivo che sentivo che un po' dopo tutte le mie esperienze avevo qualcosa da raccontare avevo una testimonianza avevo sentivo questa necessità di mettere al servizio degli altri la mia vita un po' perché alla fine io penso che quando si fanno certe scelte per chi ha figli visto che voi siete tutti grandi per chi ha figli e alla fine poi non conta cosa farai quando vai a studiare quello che farai quello che guadagni ma conta un po' chi incontri nella vita io nella vita avevo incontrato Don Claudio e tutta la gente che lavorava nel sociale io ero rimasto molto colpito molto affascinato da queste persone che mi avevano aiutato ma mi piaceva anche come portavano avanti la loro vita i valori quello in cui credevano e allora ecco questo fascino qui mi ha fatto dire scelgo questa cosa qui e ho fatto l'educatore e ora niente è un po' come visto che si parla dell'oratorio è un po' come quello che ha vissuto l'oratorio e poi fa l'educatore e fa l'animatore fondamentalmente per me è stata così in comunità io ho vissuto un'esperienza bella forte che forse sono stati quasi gli anni più belli della mia vita e ho detto è talmente bella questa esperienza che ho vissuto che vorrei farla conoscere anche agli altri ragazzi con a volte scarsissimi risultati a volte belli belli ci sono dei momenti dove ti rendi conto che loro si accendono e capiscono che la comunità è il momento che magari stanno vivendo in comunità che a volte è di imposizione perché devono stare in comunità perché l'ha scelto il giudice eccetera piuttosto che di regole invece si rendono conto che come il nome della nostra comunità è un tempo opportuno è un momento per crescere e questa cosa qui in effetti già me la diceva Don Claudio però io all'inizio non la vedevo forse perché era ancora troppo presto però te ne accorgi sempre dopo perché quando lavori con gli adolescenti non esiste la gratificazione immediata cioè questo è poco ma sicuro cioè se si va a lavorare per portare a casa il risultato del giorno delle settimane anche dei mesi anche dell'anno non si può fare l'educatore questo è chiaro però se se tu vai in un luogo del genere dove semini per seminare vai per viverti una relazione vai per conoscere per ascoltare per vedere un po' come funziona il mondo dei giovani certo ti deve piacere allora è un bel posto perché poi ti permette anche di rileggere la tua vita sempre a me stare con i ragazzi adesso mi permette sempre di rileggere la mia vita i miei errori quello che ho fatto attraverso di loro però poi te ne rendi conto bene bello quando tu incontri ragazzi dopo 3-4 anni in effetti ti dicono che l'esperienza della comunità è stata anche per loro una delle più belle della loro vita perché sentono che è stato il luogo che hanno sentito più vero di tutti perché quando uno quando fa una vita sballata di reati piuttosto che di soldi eccetera nonostante sia divertente perché bisogna essere sinceri magari da un certo punto di vista divertente però è una vita fatta di fregature è una vita dove non c'è amicizia vera è una vita dove devi stare attento perché il più vicino ti può fregare da un momento all'altro dove non hai la possibilità di mostrarti autentico vero per quello che sei ancora di più non hai possibilità di mostrarti fragile debole perché sennò ti mangiano in strada nella delinquenza e così non te lo puoi permettere ecco invece in comunità tutte queste cose te le puoi permettere e allora quando te le puoi permettere ti togli un po' questa maschera che hai allora ti senti più vero e quando sei più vero hai la possibilità di mostrare la parte più vera di te agli altri e allora cresci e quindi per me è stata la comunità un momento bellissimo di crescita che mi ha formato come uomo e provo ecco provo a portare la mia esperienza ma non solo perché io non vado non sto in comunità in forza della mia esperienza non è solo per questo però capitano quei momenti quelle occasioni educative dove ti rendi conto che i ragazzi possono davvero imparare e guardare la vita da una prospettiva diversa e allora a quel punto poi entro in campo magari se serve la mia esperienza la metto in gioco e è questo per me l'hanno vissuto con voi lì in Beccaria era stato l'incontro anche con qualche personaggio che tu ricordi bene anche Joshua Algeri Grotto che poi ho ospitato a Barasso avevamo vissuto qualche momento insieme però la cosa che avevo sentito su di me è che era stato capace di far rileggere la mia storia di far rileggere la mia vita le fragilità il disagio vissuto quello che era stato e allora mi viene in mente una canzone di quest'anno di Sanremo non so se è arrivata prima o seconda penso seconda quando diceva Mr. Rain ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo e ti cambiano dentro e Don Claudio diceva che la fragilità ricrea l'uomo e lo restituisce alla sua verità la debolezza non conduce al male ma può essere una risorsa allora volevo chiedervi da prete da educatore laureato che cosa vuol dire che la fragilità è capace di poterci restituire al bene può essere una risorsa il disagio può diventare una risorsa beh in una società in una cultura fortemente prestazionale non si può sbagliare mai non puoi esporti al fallimento perché per molti adolescenti ma per molti adulti anche il fallimento è sinonimo di sconfitta totale e quindi quando noi educhiamo anche in famiglia o nel mondo della scuola delle istituzioni al fatto che devi sempre azzeccare tutto perché per emergere per essere qualcuno devi farcela a tutti i costi devi dare risultati voti prestazioni sportive insomma devi eccellere questo mito dell'eccellenza che poi nasconde sempre dietro una sconfitta per altri perché se uno eccelle gli altri devono morire questo è insinua una cultura fortemente individualistica un po' sul mito americano del self-made man per cui a un certo punto se vuoi essere qualcuno oggi devi farti da solo ecco infatti si fanno questo è il problema perché perché la reazione qual è se se io non eccello allora io non esisto e quindi per compensare questa tragica vita che che mi impone il fallimento a tutti i costi allora consumo consumo mi dedico al divertimento cerco in qualche modo di stordire la mia vita perché devo rispondere ad una depressione da insuccesso che ormai mi appartiene ecco questo è il ragionamento di molti ragazzi e allora vai a far capire che la debolezza persino l'errore il fallimento la fragilità sono invece risorse questa è la grande sfida educativa ripartire dalle ferite per poi capire che proprio è attraverso il fallimento che tu ti conosci che tu riprendi fiducia in te stesso negli altri con quella prudenza necessaria dopo tante prese in giro dopo tanti tradimenti anche dell'adulto o del coetaneo però non si può non ripartire da questa fragilità la vita in carcere e soprattutto in comunità è soprattutto una vita che ruota intorno alle fragilità le fragilità sono soprattutto nell'ordine non solo dei sentimenti peraltro i sentimenti dicono l'analfabetismo dei ragazzi tutti questi accadimenti anche che sconvolgono in Italia queste violenze sessuali eccetera hanno alla redice un profondo analfabetismo affettivo sentimentale sessuale e lì ci interroghiamo fra l'altro perché bastano i corsettini di educazione sessuale nelle scuole basta perché a me pare che i ragazzi siano molto soli davanti al loro smartphone per cui è chiaro che più che in formazione su questi temi occorre davvero una formazione che parte ovviamente dalla famiglia ecco per cui questo analfabetismo questa fragilità sono però punti di partenza bisogna un po' però capire e far capire ai ragazzi ma partendo da noi stessi se un fallimento è dicendolo alla latina finis o limen quindi se un fallimento è finis vuol dire è il confine è il confinamento è la tua fine oppure è limen cioè soglia apertura possibilità nuova nuovo inizio in questo senso è chiaro che anche noi adulti dobbiamo fare la nostra parte come si trasforma un finis un confinamento una chiusura in un limen in una soglia e qui parliamo per esempio di giustizia riparativa parliamo di quello che significa non il perdonismo ma significa ridare slancio a un percorso nuovo a una nuova significazione della giustizia per esempio perché se c'è un tema molto fragile oggi è la giustizia che poi a volte si tramuta in giustizialismo allora dobbiamo un po' aiutare noi adulti a entrare dentro questa prospettiva che è una prospettiva che in realtà porta dei cambiamenti reali Daniel è uno di questi sicuramente quando la giustizia non viene intesa come finis come ciò che ti rinchiude come ciò che in qualche modo ti colpisce alle spalle perché parliamoci chiaro a volte mi dico e mi chiedo ma sono davvero autori di reato sì ma ma davvero c'era consapevolezza c'era capacità di intendere volere c'era davvero responsabilità piena perché arrivano al beccaria vi dico la verità nella totale ignoranza a volte inconsapevolezza della gravità dei loro gesti allora è chiaro che non li si discolpa non li si giustifica non li si legittima però ci si chiede ma quanto davvero erano consapevoli quanto la dittatura del profitto per esempio li ha in qualche modo annichiliti e li ha portati a compiere certi reati perché dobbiamo chiederci un ragazzo che vive in quartiere popolare che vive sotto la soglia della povertà in condizioni a volte di povertà assoluta io di casi anche nei vostri territori ne conosco parecchi ma siamo proprio convinti che poi non arrivi a delinquere e sembra una doppia beffa mi hanno tradito gli adulti mi hanno messo in una condizione di vita impossibile e poi mi metto in carcere ripeto non sto giustificando però entrate un attimino nel mondo interiore dei ragazzi cioè io riconosco la mia fragilità come qualcosa da cui ripartire oppure avverto uno stato che mi è solo ostile che prima mi depaupera e poi mi sbatte dentro perché è difficile far fuoriuscire certi ragazzi da questa da questo pensiero ecco all'altra parte il limen vuol dire invece aprire questi ragazzi all'idea che c'è invece una possibilità di cambiamento c'è un'idea di giustizia che non ti vuole solo rinchiudere in cella ma ti apre ad opportunità vere io sono stato un po' di mesi fa con alcuni ragazzi della comunità al ministero della giustizia non è facile portare i miei ragazzi in contesti così fortemente istituzionali con il metadetector all'ingresso con le divise che sappiamo loro amano particolarmente cioè questo tutto l'ordine costituito per loro è sempre fonte di ansia se non di rivendicazione bene abbiamo portati lì e hanno incontrato il ministro era il suo ultimo giorno di mandato l'ex ministro Cartabia e qui c'è stato un incontro molto bello solo che dopo una mezz'oretta uno dei ragazzi esattamente di Malnate alza la mano e si riferisce al ministro e dice ma tu chi sei? ecco lì ho avuto un momento di brevido e poi la domanda è stata ma tu alle cose che hai detto ci credi davvero ma davvero ti interessa di noi? è stata come sempre come sanno fare loro anche Dani era un grande provocatore però è importante questa provocazione perché perché comunque dà la possibilità a noi adulti e anche a chi ha una responsabilità di governo di di darci delle risposte prima che darle a loro no? e infatti sono seguiti credo 30-40 secondi di silenzio da parte del ministro e lì ancora di più temevo finché dopo effettivamente è stata molto brava e ha dato una risposta che è partita dal fatto di essere mamma di tre figli ha detto io innanzitutto sono una mamma e se sono qui è perché i tuoi problemi sono i miei problemi magari sono anche i problemi dei miei figli e e quindi è poi andata avanti su questo registro che è stato per me un chiaro esempio di giustizia riparativa cioè di come le istituzioni possono mettersi in dialogo con questi ragazzi no? ma il pezzo forte è stato quest'estate quando ormai ex ministro ma ancora con la scorta è venuta in montagna con noi con i ragazzi della comunità a far da mangiare ecco allora lì cambiano le cose cioè non è un abbassamento non è una perdita di autorità anzi per me lì è stata la vera autorità e allora questo cambia la visione dei ragazzi cambia cambia tutto ecco allora se dovessi dire come la fragilità ricrea l'uomo anche attraverso questi esempi cioè il mondo giovanile ha bisogno di riguadagnare la figura di un adulto che non giudichi solo i loro sbagli come finish come confine ma apra come l'imen una soglia di possibilità di opportunità nuove che forse a volte anche la nostra presenza nei ruoli istituzionali che ciascuno di noi ricopre può essere di stima come mai non c'è più la coscienza come mai non c'è più la coscienza come mai non c'è più la coscienza di fare qualcosa che sai che non va fatto che sai che stai attraversando un confine pericoloso è una coscienza di vedersi conto abbiamo visto in determinate cose che non c'è tanto questo uno rimane così con gli occhi aperti vero? come mai? beh questo potrebbe rispondere meglio Freud di me però la coscienza no un po' un po' quello che diceva che diceva Don Claudio sulle emozioni sull'analfabetismo emotivo sentimentale cioè io penso che tanti ragazzi oggi per concludere il suo discorso è questo nel momento in cui il mondo mi vuole performante in tv in giro la tv non la guarda neanche più sui social in giro mi mostrano cose grandi forti potenti che non mi posso fra l'altro permettere perché vedo anche la mia condizione di povertà assoluta ma dall'altra parte l'uomo il modello quello potente visto di successo è ricco ok da un'altra prospettiva ancora parlano continuamente H24 di crisi di crisi di crisi di ogni parte crisi economiche di governo eccetera allora che cosa significa allora io penso se il domani non posso raggiungere una certa ricchezza il mondo mi dicono che sta andando a rotoli il clima questo quell'altro tante cose ma in generale c'è proprio una sfiducia nel futuro incredibile allora perché io mi devo impegnare oggi a essere a portare buono si può dire buono a portare avanti i miei compiti a portare avanti qualcosa che funziona qualcosa che mi può garantire non so una felicità futura perché allora cosa faccio mi uccido nel presente mi uccido metaforicamente quindi mi ammazzo di droghe quindi se devo fare una rissa tagliare qualcuno coltellare qualcuno la faccio se devo fare mi vivo l'assoluto presente perché tanto il domani non ha valore non c'è prospettiva e allora è proprio questo la coscienza secondo me ha a che fare come hai chiesto te ha a che fare con la speranza se io non ho una speranza di futuro buona io oggi non mi impegno lascio andare perché tanto domani le cose non cambiano non possono cambiare e il domani purtroppo è una prospettiva che per tanti versi ti propone l'adulto e allora ecco che in comunità io cerco di cerchiamo di lavorare sulla prospettiva su quello che è il domani non sulle cose che muoiono all'istante non su promesse che non sono reali non su fatiche che poi non verranno riconosciute perché se non mi posso impegnare oggi se il domani fa schifo allora io l'attesa non so più che cos'è infatti i ragazzi adesso non sanno attendere adesso facciamo i cineforum in comunità dopo un quarto d'ora si devono alzare a fumare dopo 20 minuti si devono andare a fare un giro cioè non si sa regio poi noi siamo l'estremo in comunità dei ragazzi così non è che sto dicendo sono tutti così però questo ti indica tante cose no? cioè l'attesa non si sa più vivere e io penso che l'attesa non si sappia vivere perché non ha una promessa di bene di bene domani una promessa di crescita per me per gli altri allora io cosa faccio? il presente è totalmente da vivere perché il domani non mi piace e quindi me lo vivo in maniera assoluta con la massima adrenalina possibile e così perdo la coscienza però è così mi fermo perché sto facendo qualcosa che non va bene mi fermo però perché non avviene questo discorso mi fermo perché il resto è tutto bene giusto che io sto a vedere questo ma mi fermo non sto a vedere perché uno ti butta la terra tutti i conflitti eh ma perché non ti riesci a fermare non puoi fermarti non puoi non riesci un po' anche perché in effetti tanti ragazzi che incontriamo oggi e questa è una delle grandi differenze rispetto perché io per esempio sono uno che non nota molte differenze rispetto alla mia epoca non le noto così tante di dieci anni fa ci sono delle cose che amplificano tutto e secondo me sono i social perché mentre prima tante cose si facevano rimanevano all'oscuro scoperte adesso sono amplificate al massimo una delle cose che cambia per esempio che sono tanti ragazzi in effetti che per esempio le sostanze le iniziano davvero subito cioè a 12 13 a 15 anni sanno già cos'è la cocaina ai miei tempi su 20 ragazzi due sapevano cos'è la cocaina qua lo sanno quasi tutti piuttosto che tanti vengono sono molto psichiatrici alcuni è cambiato per me sono queste le due cose principali che sono cambiate poi il fatto di voler di voler fare delinquenti di puntare sull'immagine che vengono da una certa condizione sì c'è sempre stata con la roba e perciò non me ne rendo conto non mi riesco a fermare non mi riesco perché ha a che fare con l'attesa che dicevo prima cioè i ragazzi di oggi non sanno vivere l'attesa no è anche difficile per noi educatori ogni volta trovare qualcosa da fare che elimini l'attesa perché se li porti in posti o fai cose dove si devono fermare è difficile poi bisogna farlo perché non è che si può vivere a 200 all'ora 24 ore però è difficile vivere l'attesa in comunità ci proviamo e appunto siccome è difficile vivere l'attesa allora poi c'è anche tutta quella quella categoria di pensiero che dicono ok non sai viverti l'attesa e per esempio questo può spiegare bene Don Claudio allora ti abbuffo di farmaci visto che la tua vita va a 200 ore per fermarti ti do i farmaci perché? perché ti devi fermare in qualche modo poi sia io che Don Claudio io non li ho mai presi però sia io che Don Claudio penso che siamo contro questa contro questa prospettiva qua dei farmaci però ci sono un sacco di ragazzi che arrivano con delle prescrizioni pesanti che non danno neanche agli adulti a volte con infinite gocce pastiglie per fermarsi no? e quindi e poi mi chiedo e poi però mi chiedo ma caspita però è un sacco affine alla società di oggi a una società della performance dell'accelerazione che deve essere tutto fatto in tempi rapidi e bene guarda che i giovani sono lo specchio della società non c'è niente da fare passano la società il futuro passa dai giovani solo che in Italia come sempre basti pensare che per esempio parlando solo di scuola io giro vado in tantissime scuole parlando solo di scuola che dovrebbe essere come dire la fucina di talenti la nostra fucina di talenti il luogo in cui ti formi cresci in tutti i modi perché tanti ragazzi che vengono in comunità i primi problemi sono a casa poi a scuola e poi arrivano in comunità è sempre così però basti pensare che l'Italia è uno degli ultimi paesi in Europa a livello di ragazzi di giovani studenti per comprensione di un testo scritto l'Italia che è una delle forze maggiori di risorsa del paese siamo agli ultimi posti nel 2020 sono sicuro che eravamo penultimi adesso magari abbiamo alzato un paio di posizioni ma sono non so quanti paesi insomma questo è solo una dei dati che ci sono ce ne sono una marea siamo indietro in tantissime cose e quindi quando c'è il vuoto quando c'è il vuoto quando non mi so fermare quando quando non so comunicare il mio disagio quando non so parlare non so pensare allora divento violento e io faccio di nuovo la stessa cosa che ho fatto prima fra società e giovani e ok è la stessa cosa delle leggi di adesso quando io non so comunicare con i ragazzi quando io non so stare lì fermarmi pensare insieme a loro la cosa che funziona di più qual è? La forza è un po' come la legge è la società e così e quindi tutti questi decreti legge che sono stati adesso mi sembrano che siano un po' come dire faccio la cosa che mi permette meno fatica ma che mi dà la risposta più facile immediata quindi non faccio fatica però metto questi decreti dove ti reprimo al massimo ci sono dei momenti in cui la forza viene un po' abusata ecco e non va bene non è giusto così sì la coscienza poi forse è il luogo dove noi riceviamo gli input educativi adesso senza fare grandi fenomenologie della coscienza però è ovvio che se manca questo aspetto qui poi è difficile anche che uno riesca a prendere decisioni a riguardo quindi la coscienza è il luogo dove noi tutti gli input educativi che riceviamo li facciamo nostri e diventa il luogo poi delle nostre scelte è ovvio che se come diceva Don Claudio prima anche la povertà educativa di certe zone di certi contesti dove non ricevi input è difficile perché la coscienza sia educata anche perché anche tante persone adulte fanno fatica a prendere scelte secondo coscienza insomma è un problema proprio di educazione adesso Daniel citava un pochettino gli ultimi decreti legge così tra poco ne faremo uno su Malnate perché Don Claudio oggi ha citato Malnate che è il mio paese di nascita c'è anche il sindaco che vedo lì Irene infatti ha citato Malnate il nostro caro paese però mi viene proprio da domandarvi allora così un po' sull'attualità che cosa vuol dire lavorare in un posto come Caivano è ovvio che il decreto legge è immediato però proponeteci una ricetta dove come interverreste va bene un protocollo ci sono tante questioni Caivano non lo conosco quindi partiamo da da quello che uno può conoscere dalla situazione reale perché anche questo decreto che poi denominato Caivano ma non è chiamato così però è chiaro che è nato soprattutto come risposta energica dello Stato ha un fatto molto grave quindi diciamo che è nato un po' in quel contesto e per quel contesto e poi ha anche portato dei finanziamenti per quel contesto allora è chiaro che bisogna investire in quelle realtà più fragili del territorio insomma adesso Mannate non possiamo generalizzare perché a dire Caivano è come dire là tutto tutto il delirio è a Caivano e così adesso non volevo immaginare di dire che Mannate è solo questo ovviamente anche perché sono stato già a parlare una volta e anche tanto altro ma c'è un quartiere che fra l'altro non è proprio di Mannate da quel che ho capito dai vicini insomma però fa parte ormai non in gergo da preti fa parte della stessa stesso decanato comunità pastorale non mi ricordo più ma voi lo sapete meglio perché io lì sono stato parecchie volte in quelle case popolari che quartiere si può dire adesso mi chiedete di fare queste cose no adesso avete meglio di me io sono stato in quelle case popolari sono stato anche in quegli scantinati ho visto un po' di cose ecco ho visto i ragazzi che giravano i video insomma ho visto tante cose ma soprattutto ho ascoltato i racconti dei ragazzi provenienti da questo contesto allora è chiaro che beh prima bisogna indubbiamente aiutare e stare vicino alle famiglie perché molte famiglie si sa monogenitoriali magari con tanti figli a carico c'è tutto un problema delle seconde generazioni per esempio no che anche lì non possiamo pensare che il tema dei minori stranieri o delle seconde generazioni sia un tema di emergenza ma ormai che lo accettiamo o no che al di là di tutte le questioni ideologico partitico politiche però è un dato di realtà strutturale sistemico che ce ne facciamo una ragione o no ma questo è e allora possiamo sempre immaginare che le risorse vadano investite solo per questioni emergenziali quindi poi non ci sono no ci sono quartieri che necessitano secondo me strutturalmente di interventi voi pensate cosa vuol dire anche solo banalmente crescere nel degrado ambientale perché io quelle case popolari le ho viste lì dove ero per esempio mi ha incuriosito perché non c'erano negozi c'era solo una pizzeria un po' improvvisata e uno dice caspita ma un bambino che cresce dentro quei cortili dentro quell'ambiente nel degrado totale di certe case perché io sono entrato in qualche casa quindi mi chiedo ma come potrà perché anche la bellezza educa anzi quindi io dico sicuramente la prima forma è di prendersi cura dell'ambiente della situazione di certe famiglie delle case è chiaro che dico cose scontate però non sono così scontate cioè bisogna perché nell'animo di un politico io penso che uno dica va bene quelle sono situazioni marginali va bene dobbiamo fare qualcosa dove ci sono le emergenze e no l'emergenza è strutturale quindi bisogna investire fare un piano serio perché un bambino non debba vivere in una condizione del genere è chiaro che dopo cominciano a spacciare cominciano a vedere cose perché le hanno sotto gli occhi anche a San Siro così vivono in mezzo al degrado dell'immondizia lì è peggio ancora vivono di fronte al degrado di vedere fatti di sangue sotto i loro occhi spaccio a cielo aperto giorno e notte e uno dice basta il contrasto poi poveretti non è che possono solo intervenire le forze dell'ordine eccetera che anche a volte è complicato perché poi è una piove si rimarge da tutte le parti per cui il problema è molto più a monte è dire ma davvero pensiamo di poter dare energie a una situazione così incancrenita possiamo ce la facciamo o ci sono sempre altre emergenze altre priorità perché io penso che su questo ho sempre visto che c'è consenso da tutte le parti anche politiche beh i minori sono minori cioè mi dispiace litigate su tutto il resto scannatevi partiti politici eccetera ma davanti a un bambino mi dispiace convenzione dell'ONU e non solo non c'è non c'è divisione che tenga per cui bisogna sapere che la tutela nell'infanzia è un dovere per tutti per tutte le parti politiche e quindi bisogna investire ecco quindi questo è per dire lasciamo poi qualche spazio anche per qualche domanda Bambi cosa dici? no no facciamo quante ne vuoi però magari dopo è bello visto che tu sei la capa mi rivolgo a te per dopo dopo Irene lasciamo spazio il sindaco di malnate è carico adesso questo cambiamento che abbiamo avuto non lo so io ma è c'ho già una certa età però è stato un cambiamento così veloce a un certo momento si andava a scuola e si viene vestito in un certo modo adesso non puoi neanche dire che devi andare a scuola o mai al lavoro vestito in un modo corretto non puoi dirlo perché sei tacciato ok non puoi dirlo ma cosa c'è in mezzo cosa è successo cosa è stato abbandonato anche nella famiglia che grande rivoluzione c'è stata e adesso è molto in breve è chiaro che va bene il sistema del padre padrone non è più un funzionato quindi da una parte la contestazione dell'adulto che prima era anche un modo per crescere in fondo oggi è sostituita dall'irrilevanza dell'adulto per cui l'adulto non c'è e quindi la legge me la faccio io e questo in generale quindi un familismo che non è più né carne né pesce nel senso non è più dispotico all'estremo posto ma ormai non c'è più o addirittura diventa familistico nel senso peggiore perché diventa come dire una simmetria dei rapporti tra pari e frigli tra generazioni che coincidono ormai è chiaro che non c'è più trasmissione dentro un rapporto ormai di coincidenza tra le generazioni detto questo è chiaro che questi ragazzi sono molto soli e quindi si costituiscono come una società tra pari per cui le leggi se le fanno loro e se le governano loro ed ecco questo è chiaro è il sistema migliore per le mafie di entrare perché è chiaro che purtroppo noi diciamo che la mafia magari ormai non ha più l'epoca delle stragi che sia una situazione ormai forse un po' superata affatto affatto io non ho mai sentito nemmeno ai loro tempi c'erano proprio delle frasi e dei costrutti di pensiero così mafiosi e così radicati nei nostri ragazzi adolescenti come oggi al nord quindi bisogna tenere alto il livello di attenzione perché molte situazioni che stanno esplodendo dicono proprio questo che se noi non interveniamo se non ricostruiamo una un rapporto intergenerazionale serio il rischio è che davvero è la criminalità più organizzata entri a piene mani e devasti ancora di più i nostri ragazzi almeno nella mentalità con questo non vorrei malnate nella bella città non ce l'ho con malnate non so niente quindi mi scuso se magari posso suscitare clamore ma però però è vero che sicuramente qualcosa andrà fatto quindi magari c'è già un pensiero c'è già un'azione io questo non posso sapere anzi sarei contento di saperlo Daniel una domanda così noi abbiamo parlato del bisogno dell'adulto dei ragazzi se tu dovessi descrivere i ragazzi quali sono i bisogni che tu recepisci soprattutto che potrebbero aiutarci a leggerli in maniera più profonda un adolescente oggi che tu segui di cosa senti che avverte davvero una necessità come lo descriveresti ebbè è difficile perché a volte a volte tu hai in mente e ti convinci che abbia bisogno di alcune cose no poi in realtà non sono quelle è difficile intercettare i bisogni dei ragazzi perché parte da da un ascolto molto profondo perché faccio l'esempio magari arrivano ragazzi in comunità e siccome la popolazione delle educatrici principalmente è femmine allora tante volte l'approccio con alcuni ragazzi e dire poverino ha bisogno d'affetto sì certo questo sì è ovvio gli odiamo l'affetto però non è mai sempre e solo quello e quindi questa comunque è giusta come cosa perché è un inizio è un inizio di cura di un bisogno che ha perché in effetti per esempio in questo momento abbiamo tanti ragazzi che sono si può dire minori stranieri non accompagnati o comunque sia ragazzi extracomunitari dove si fa davvero un sacco ma troppa fatica con l'italiano e quindi anche solo il fatto anche solo saper comunicare loro i bisogni a noi è difficile capirlo perché magari una tua parola loro la possono intendere in un altro modo e noi possiamo intendere una loro in un altro modo il loro modo di comunicare di esprimersi a volte è proprio povero è molto povero quindi diciamo che è tantissimo difficile in questa fase in comunità però in generale io penso che in questo momento i ragazzi abbiano bisogno di verità che è una cosa che si vede tantissimo e questo te lo fa pensare il fatto che per esempio tutte le canzoni che ascoltano adesso il mondo della musica che anche Don Claudio ormai conosce benissimo è fatto di narrazioni è fatto di storie che tante volte sono vere e i ragazzi i ragazzi hanno bisogno in questo momento di storie vere ma più che altro bisogno di persone vere perché ora come mai ti sgamano subito se li stai prendendo in giro se stai facendo finta con loro se ti stai permettendo qualcosa che non ti puoi permettere o vuoi essere qualcuno che non puoi essere e allora quando invece sentono ma anche rispetto a tanti ospiti che vengono in comunità a trovarci che Don Claudio conosce c'è un sacco di gente anche importante eccetera loro capiscono quando è vera sentono subito quando è vera una persona e quindi ecco in mezzo ai soliti bisogni che sono affetto cura possiamo parlare della crisi del padre perché se da una parte nella società che c'è adesso si va contro questo maschilismo che c'è eccetera nel sociale invece è il contrario c'è un'assenza del padre che è incredibile e la maggior parte dei ragazzi che stanno in comunità e questo ormai da anni il 90% ha problemi con la figura del padre e hanno tante volte una madre come descriva prima Don Claudio iper presente troppo presente iper protettiva che si sostituisce quasi no che è talmente protettiva e presente vuole talmente bene perché poi lo fa per l'amore del cielo lo fa con tutte le buone intenzioni che poi li vizia e ora che poi togliere i vizi ai ragazzi è difficile anche in comunità lo vediamo quando tu vizi i ragazzi puoi tornare indietro è molto difficile perciò perciò per esempio tutta la cosa tutta anche la rappresentazione di quello che è il padre un po' la fermezza la legge psicologicamente rappresenta il padre piuttosto che l'autorità piuttosto che l'apertura la cultura eccetera non che la madre non ce l'abbia però insomma un po' viene descritto così per categorie larghe ok questa cosa qua manca però ecco più di tutte io penso che abbiano bisogno di autenticità di storie vere di persone vere perché quando poi sentono che l'altro è vero riescono ad aprirsi riescono a fidarsi riescono ad ascoltarsi però se vedono che c'è un doppio fine tanti ragazzi adesso addirittura in comunità insomma è un periodo dove ti dicono non ho amici guarda che pesante sta cosa non ho amici io non credo nell'amicizia cioè anche i miei tempi però dovevi stare lì attento però addirittura che non ho amici ci sono alcuni ragazzi anche che nel percorso che fanno da noi in comunità che è una delle migliori che ci sia in Italia ma non perché ci sono passato io eccetera ma i ragazzi stessi se chiedete conoscono le comunità che ne hanno girato un po' vi dicono è una delle migliori ma da noi che è una delle migliori alcuni ragazzi per fortuna non tutti pochi però questo ti fa capire tanto pochi ragazzi dopo un anno un anno e mezzo di comunità dicono io qua non ho amici qua dentro e sta cosa è pesante perché questa è la prima cosa che cerchiamo di fare in comunità al di là dei progetti della scuola del lavoro eccetera è la cosa che si cerca di fare in comunità la prima è di costruire dei rapporti veri seri duraturi si spera di far vedere loro che cosa sia l'amicizia quella bella quella vera e quindi questa cosa manca però direi questo ecco che manca autenticità hanno bisogno di autenticità hanno bisogno di persone che siano vere di cui fidarsi di cui appoggiarsi che automaticamente poi questo apre l'ascolto e la fiducia però devi essere vero perché se no ti sgamo subito e basta capisco che mi vuoi fregare magari questa è una cosa interessata poi passiamo alle domande è per questo allora che anche nella chiesa si fa fatica perché un giovane dovrebbe cercare nella chiesa ciò che trova già in altri contesti questa è una domanda interessata perché noi parliamo della fede ma non sappiamo cos'è la fiducia pensiamo che il salto sulla fede sia già scontato quando magari abbiamo rapporti che magari non partono da una costruzione di fiducia e allora il ragazzo poi mette in dubbio anche la fede quindi io penso che un oratorio non è che tradisca la propria missione la propria identità se magari non si occupa tanto di Dio perché su questo Dani mi può rispondere meglio cioè l'oratorio porta a Dio eventualmente perché fra l'altro non lo può imporre questo è un dono la fede ma porta a Dio se c'è un clima di fiducia se c'è un clima di comunità vero come ha detto Daniel se i rapporti sono di amicizia ma quante delle nostre parrocchie quante delle nostre oratori ispirano questo tipo di rapporto umano perché poi dentro i rapporti umani veri autentici di impronta fiduciale allora la fede attecchisce come eventuale pienezza della fiducia ma quando un oratorio solo sforna proposte calate anche lì dall'alto o non genera una comunione difficilmente potrà spingere o far conoscere la vera fede quindi su questo anche noi chiesa ci dobbiamo interrogare e capire un po' se i nostri ambienti sono ancora davvero comunità pastorale perché noi usiamo molto questi termini da sempre ma forse è rimasta un'etichetta io a volte mi chiedo arrivano dei ragazzi al beccaria anche di famiglie cattoliche di famiglie di bravi genitori e poi scopri che in oratorio nessuno sa che il figlio è il beccaria magari perché perché la famiglia che la brava famiglia che vive un momento di difficoltà con un figlio tende a isolarsi ma soprattutto ha il sentimento della vergogna e allora io mi chiedo ma com'è la comunità cristiana che dovrebbe essere il luogo dove anche raccogliere le fatiche i fallimenti in fondo è una comunità che si raccoglie intorno a un fallito per cui dico non dovrebbe essere così difficile accogliere dentro una comunione anche il fallimento boh invece è totalmente assente anzi isola magari e stromette esclude ecco allora secondo me questo è un po' il cammino anche di chiesa che dovevamo ritornare a fare sulla questione di Dio penso che con Daniel e Daniel con me è stato un match interessante non so se vuoi dire tu qualcosa perché io non gli ho mai parlato di Dio per anni probabilmente non so com'è andata è andata che frequenta tanti oratori ne vede tanti quindi anche lui potrebbe dire qualcosa no vabbè non è che sono non sono così esperto però no mi sorprendeva il fatto che un prete appunto non parlasse mai di Dio no quando ero in comunità mi ricordo il primo anno e mezzo che abbiamo fatto non l'ha mai tirato fuori poi io mi hanno arrestato sono andato a San Vittore il carcere di Maggiorenni sono uscito ripreso a studiare ed era tutta quella fase delle domande era tutta quella fase del mi guardo intorno per vedere chi c'è di cui fidarmi di cui prendere esempio modello eccetera e ora in quel momento c'era Don Claudio ma no non perché in quel momento c'era Don Claudio avevo scelto Don Claudio e allora lì niente è normale che poi quando incomincia a crescere vedi tante cose che fa dove andava chi conosceva eccetera e allora cominciano a nascere i primi perché e allora gli chiedevano perché perché fai così perché sei così come affronti questa situazione eccetera e anche quando glielo chiedevo faceva fatica a dirmi qualcosa che riguardava qualcosa di grande in realtà no e poi piano piano in realtà diciamo che con la sua con la sua vita con la sua testimonianza è riuscito a è riuscito a a trasmettermi perché poi io penso che quello che ha detto prima anche il Don è vero cioè tu se non puoi avere fede se non hai fiducia e io sono dell'idea che Dio alla fine lo si conosce in mezzo in mezzo agli uomini cioè non si può leggere non si può studiare Dio non si può neanche cioè adesso non voglio esagerare però non si può conoscere magari dopo si però conoscere sentendolo cioè io mi ricordo quando siamo andati a Roma con il Don che avevo conosciuto altri ragazzi magari però questa cosa è vera non lo so che avevano conosciuto Dio durante un'apparizione davanti a un'illuminazione e io questa cosa non riuscivo a spiegarmela non riesco a spiegarmela poi magari è vera non lo so però rispetto alla mia esperienza per me è stato difficile riconoscere che sia avvenuta questa folgorazione istantanea su su sulle persone no e quindi io penso di averlo conosciuto in comunità di averlo conosciuto in comunità di averlo conosciuto attraverso Don Claudio che quando sono andato poi a studiare teologia all'università mi ricordo che avevo letto questo libro per l'esame pesante pesantissimo perché poi sono anche pesanti i libri perché ripetono all'infinito le stesse cose e mi ricordo che c'era questa frase che mi ha ricordato anche un po' come è stato Don Claudio nel nascondere Dio no e c'era questo teologo appunto che diceva che Gesù alla fine Dio si è lasciato indovinare no perché è come se lui dice sempre se io sento che la tua domanda non è vera non è che ti posso parlare di Dio ok perché sennò sarebbe appunto una trasmissione di storia un po' un po' fredda un po' meccanica invece in realtà io vedevo Don Claudio che faceva certe cose e poi sembra che come dire tutto quanto si collegasse no e quindi vedevo anche altre persone perché poi ho frequentato dei centri che mi aiutavano a studiare io ho conosciuto altre persone credenti quindi sembra che quando ho cercato di farmi qualche domanda che riguardasse Dio si erano venuti degli incontri che mi parlassero tutti che mi portassero un po' a incontrarlo no e allora quando quando vedevo Don Claudio che faceva certe cose quando vedevo un sacco di adulti cristiani credenti che facevano certe cose non riuscivo a spiegarmi come lo facevano perché lo facevano e poi alla fine alla fine me l'hanno detto mi ricordo per esempio Fiorella che la mia la professoressa che ho incontrato in carcere mi ha riportato a studiare che faceva un sacco di cose belle per me e io non riuscivo a spiegarmi il perché quando glielo ho chiesto poi mi ha detto per Gesù allora io mi sono messo a ridere faccio ma in che senso per Gesù non ci credo che sia così e poi in realtà è così è così ecco quindi io l'ho conosciuto perché? perché ho conosciuto tanti cristiani per fortuna li ho conosciuti nonostante tanti li conoscono sbagliati perché tanti ragazzi soprattutto di oggi tanti di quelli che non credono mi hanno da dire sulla chiesa da oggi fino a a cent'anni io forse ho avuto la fortuna di conoscere quelli seri quelli credenti davvero e mi ha affascinato la loro vita semplicemente questo non è stata una questione che mi hanno parlato di Dio mi hanno fatto vedere con la loro vita e con quello che facevano il significato che davano ai loro momenti di fragilità ai loro momenti di debolezza mi ha fatto mi ha fatto affascinare a loro e poi ovviamente c'è anche un percorso che devi fare tu da solo però la vita che ho incontrato di altri mi ha acceso è bella la frase che aveva regalato un ragazzo a Don Claudio in carcere tu hai una vita sola l'hai donata a noi forse un po' questo riassume quello che dicevi adesso parlandoci un po' della testimonianza che ti è stata resa lascerei un istante la parola a Beppe Carcano che ci porta dei saluti giusto? così dei saluti alti magari anche vuole dire due parole poi lasciamo lo spazio a qualche vieni vieni qualche domanda l'abbiamo presentato prima l'ha presentato prima il prefetto Giuseppe Carcano è capo il presidente dell'ufficio provinciale l'è provveditorato una volta si chiamava adesso ho cambiato un po' nome e ormai da qualche anno secondo una vecchia profezia è diventato provveditore agli studi della città di Varese e quindi all'interno del progetto del protocollo ha avuto un'importanza notevole insomma si devo portare saluti alti ma non dell'altissimo voglio rubare voglio rubarvi il lavoro saluti alti ma del mio direttore generale la dottoressa Volta che sempre coinvolta dal signor prefetto e quindi segue a distanza ma con attenzione tutto il lavoro che viene fatto qui nella scuola la profezia a cui accennava Don Giuseppe è stata una sua profezia perché io lo incontrai un giorno di agosto mi disse tu sarai il nuovo dirigente dell'ufficio scolastico ho detto come sì ero in corsa ma insomma poi passarono 15 giorni e arrivò la nomina quindi insomma non ho c'è un profeta qua vicino io ringrazio Daniel innanzitutto perché oltre che chiaramente il Don Claudio perché devo dire che stavo ripensando i miei quasi 40 anni di scuola e vado a casa oggi dove devo ridiscutere un po' tutto insomma del mio lavoro e del lavoro delle persone che in qualche modo sono intorno a me mi ha colpito molto di Daniel poi la chiusura perché ha detto sì ha raccontato tutte queste cose sì questo ecco non ha chiuso questo come se avesse detto una cosa normalissima in realtà ha raccontato una cosa impressionante una cosa che davvero bellissima è una cosa che anche come mondo scuola ci rilancia e ci ridà la fiducia lunedì mattina quanti siamo qui del mondo della scuola siamo in tanti di ricominciare ecco perché davvero è possibile soprattutto per chi è educato è possibile educare insomma nella tua storia si capisce davvero questo essendo stato tu educato dall'incontro che hai fatto adesso sei in grado di educare quindi davvero la tua storia è molto bella perché è la storia di un successo ecco insomma diciamocelo no andiamo un po' guardiamo positivamente pur nel percorso difficile perché insomma non è stato molto lineare il percorso ecco però vederti mi fa pensare anche adesso io vabbè insomma qualche lustro che non insegno più non entro più in classe però ho incontrato tanti alunni come te e mi hanno messo veramente in difficoltà e chissà di loro cos'è stato spero davvero che sia stata una storia bella nell'esito finale come la tua e poi grazie al Don Claudio forse è la quinta o sesta volta che lo ascolto però devo dire che mai come oggi mi ha messo in discussione mi ha messo in discussione per tante cose che ha detto tante cose certamente non facili ma che sono dovute insomma non dobbiamo uscire dalla logica ecco semplicemente dei progetti spot di cercare i fondi disperatamente in giro ecco se poi questa cosa non diventa non ha una continuità dobbiamo rendere è già un'espressione sbagliata spesso diciamo dobbiamo rendere i giovani i protagonisti ma comunque il soggetto siamo sempre noi noi dobbiamo rendere i giovani i protagonisti i giovani devono essere non essere loro i protagonisti è una sfida non è semplice guardo Lelia Mazzotta che nel mio ufficio segue un po' tutto questo questo mondo che riassumiamo nella parola disagio riducendolo in maniera impressionante è davvero insomma è un po' che ci ci interroghiamo su questa cosa vuol dire giovane protagonista ecco non è facile non è facile comunque avete detto avrei fatto la domanda no? cioè facciamo veramente fatica a intercettare i bisogni rendere i giovani protagonisti ma renderli non come diciamo noi ma come come vogliono essere loro no? però non avete poi poi detto bene ecco come come si può fare quindi davvero grazie e poi mi ha fatto anche molto piacere sentire del ministro Cartabia perché il ministro Cartabia insieme a Don Giuseppe Cadonà è molto più modestamente sottoscritto siamo tutti ex studenti del liceo Ferraris del liceo scientifico di Varese e quindi siamo alumni insomma siamo ci freggiamo di questo termine latino così bene l'alumnus l'alunno prediletto poi chiaramente il ministro Cartabia direi che siamo ai massimi livelli ecco dopo il profeta chiaramente fermati un attimo per una domanda veloce così bruciapelo due settimane fa col prefetto abbiamo assistito un incontro bellissimo col cardinal Ravasi quello è un peccato è giuventino non è che si può essere perfetti nella vita comunque abbiamo assistito a questo incontro bellissimo col cardinal Ravasi che ha detto due parole che nella vita bisogna essere magister e minister magister e minister come educatori magister è chi sta sopra e dice ti do una parola perché ho fatto un cammino minister invece chi sa mettere minus si sa mettere a fianco te la lascio lì ve la lascio lì sì scusate ho stato attirato dal portachiavi adesso tiro fuori la bandiera del Milan però perché non vale siccome sabato prossimo andrò allo stadio ma è per la prima volta si 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 capisce dicevo nel caso di Don Beppe nessuno è perfetto è un profeta però ma stasera vado a vedere Milan Lazio comunque dicevo che il cardinal Ravasi ha usato queste due parole che mi hanno colpito che ricordo bene magister chi educa sa dire una parola perché ha fatto un cammino quindi magis di più so qualcosa di più ho fatto un cammino nella vita minister perché anche se hai 60 anni 40 anni di esperienza o è mi metto al tuo fianco minus so farmi piccolo per accompagnarti e queste due parole mi hanno mi hanno fatto riflettere perché in fondo io sono un ragazzo poco cresciuto nel senso sono 36 anni e cosa vuol dire per noi per voi essere magister e minister ma magister è un po' questa cosa che a grande fatica pian piano vedo nella mia esperienza di quasi 40 anni scolastica questa cosa che ci portiamo dalla riforma gentile insomma dagli anni 20 per cui l'insegnante era considerato il depositario della cultura e che in qualche modo come magister avrebbe gentilmente offerto ai suoi discepoli ecco in realtà mi sembra che dalle cose che avete detto voi oggi si capisce benissimo che educa chi è minister cioè chi è capace di mettersi a livello dei ragazzi oggi soprattutto oggi è maggior ragione cioè il modello gentiliano forse funzionava negli anni 30 40 forse anche 50 forse ancora ai miei tempi quando ho fatto io il liceo dove questi grandissimi insegnanti cultori della disciplina effondevano il loro sapere no ho ancora incontrato pochissimo tempo fa il mio professore di storia e filosofia che c'è ancora ultra novantenne e ancora mi incuteva ancora mi incuteva timore il mio preside di allora non Robertino Livio Iringhelli ancora c'è se lo vedo mi incute ancora timore però come dire è una figura che allora cioè comunque mi ha insegnato in positivo assolutamente ora ho un modello che non può non può reggere assolutamente cioè ti devi mettere al fianco dei ragazzi certo essendo tu vero e cultore di quello che sei cioè l'insegnante di lettere che ha una passione per la letteratura e e la vive chiaramente la comunica no e quindi attraverso quello poi fa passare tutto però devi sempre metterti a questo livello cioè veramente di ministro sono assolutamente d'accordo col cardinale tanto bellissimo l'incontro in quel diluino lascerei lo spazio a qualche istante per qualche c'è qualche microfono sì bella io posso parlare anche se mi sentite allora in realtà non è una domanda è una questione non ho più risponente che devo confrontarle con voi alla fine di tutto mi viene di tutto quello che ci siamo detti mi viene mi è venuta in mente questa cosa allora immaginiamo appunto una società come un corpo e c'è una quella parte del corpo che non sta molto bene quando noi trascuriamo non lo so mi fa male un piede non ci faccio caso dopo un po' il corpo per farsi sentire cosa fa urla ecco mi viene da pensare che allora la nostra società proprio messa bene non è ce lo siamo detti performante non autentica perché la non autenticità non è un problema dei ragazzi anzi loro hanno avuto l'autenticità ma gli adulti sono d'accordo sull'inconsistenza degli adulti e sul fatto che siamo tutti in maschera ma potentemente ma perché hanno una richiesta sociale alla fine tutti si adeguono si incanalano e così siamo messi quindi i ragazzi a proposito di coscienza e di consapevolezza forse in realtà sono i più sani di tutti questi ragazzi perché sono quelli che più di tutti sentono il bisogno di autenticità che in questa società non c'è e che gli adulti non stanno colpondendo quindi forse bisognerebbe un po' rimbalzare la prospettiva mi è proprio venuta in mente questa cosa purtroppo noi pensiamo che sono loro da curare ma forse loro ci stanno dicendo urlando perché nessuno ascolta che abbiamo noi adulti in società un problema quella della non-autenticità quindi io penso che davvero sia forse bisognerebbe riportire da questo io insegno e sono anche counselor quindi tutto il lavoro sull'autenticità all'essere non giudicanti l'empatia l'ascoltativo insomma tutto quello che viene insegnato in determinati percorsi cerco di applicarlo ma i ragazzi la prima cosa ti guardi tu entri in classe non sanno neanche chi sei ma non devi neanche parlare tra sudi proprio lo dico sempre quasi tra sudi quasi l'odore non ti hanno ancora visto però già sanno se tu sei disponibile a prenderti in carico loro cioè ci sei per loro questa è la prima cosa che guardano guardano se sei coerente che vuol dire coerente con te stessa magari l'indomani posso dire ragazzi ci ho pensato che effettivamente non era una buona idea cioè l'unica vera coerenza possiamo avere con noi stessi e non con per forza un'ideologia io posso dire cambiare idea però comunicarle che sto cambiando idea perché loro se ne accorgono e poi se con loro hai voglia di fare qualcosa cioè di agire una trasformazione questo loro lo guardano subito e se tu non sei in questi binari cioè non ti calcolano ma questo tutto sommato mi viene da dire a proposito di ricorsa paurezza non è così malato non sei sano perché vuol dire che si vogliono cercare di morire e quindi tanto di capelli per cui non so io rifletterei su questo grazie perché mi avete cioè come si dice un insight mi avete ribaltato la prospettiva forse ascoltiamo effettivamente chi sta purtroppo facendosi anche del male portando un prezzo sulla propria pelle cercando di ricordarci che abbiamo un problema grazie ha parlato prima diceva appunto di questo desiderio di verità quindi penso che faccia un po' leva quello che diceva su questo Irene vieni qua al microfono dai così si sente si sentono si sente anche in fondo Irene sindaco ti chiamo Irene sindaco di Malnate che era seduta vicino al sindaco di Luino da dove vengo da dove sono Enrico saluto volentieri grazie grazie a tutti devo dire che sono molto contenta di essere venuta qui questa mattina vi faccio i complimenti mi associo ai complimenti di Carcano perché è veramente stato un tavolo molto interessante la prima mia richiesta però è questa questo libro bellissimo che ho subito comprato vorrei che questo tavolo così come è formato lo venisse a raccontare alla 167 lì in luogo la nostra 167 è una realtà molto complicata è un luogo dove anni fa nel circa fine anni 70 inizio anni 80 è stata realizzata a confine dove sono stati accentrate famiglie con grandi difficoltà parlavo con il maresciallo Gueli maresciallo Camelia che voi conoscete benissimo che mi raccontava ogni volta che ci siamo confrontati sulle questioni contingenti lui con suo bel siciliano che io adoro i sindaco e lei doveva esserci qua quando c'erano quelli sì veramente e vabbè e vi lascio immaginare ci sono state famiglie veramente complicate e quelli che ci sono adesso sono i frutti di quella decisione senza colpolizzare nessuno chiaramente di decidere di fare un luogo destinato di emarginazione io credo che questa politicamente in generale perché poi non è capitato soltanto in Italia lo abbiamo visto sono le scelte più sbagliate che ci possano essere delimitare in un luogo fisico le difficoltà ora noi lo abbiamo ereditato io ho fatto prima l'assessore e poi sono diventata sindaco ma nella mia vita di mamma di quattro figli di ex scout di membro dell'associazione genitori di malnate la prima cosa che ho fatto quando sono diventata assessore è andare alla 167 ho trascorso serate intere sedute seduta sui gradini della 167 a parlare con Mattia e così via è difficile diventare adulto creduto come diceva Don Tonino Bello è proprio difficile però ci si deve provare io ci ho provato credo molto in questi ragazzi perché io glielo dico sempre ognuno di voi ha un talento quel talento va scovato e esaltato e loro mi dicevano ma sindaco a lei che gli è frega di stare qua mi dicevano perché a me interessa potervi aiutare ditemi che cosa volete e lì è difficile perché loro ti fanno richieste purtroppo irrealizzabili e io gli dicevo io non ti posso creare io la casa discografica la sala la sala di incisione però ti posso dare un luogo ti do il castello dove c'è l'aula studio vai lì trovatevi lì realizzate cercate di incontrarvi proponete degli eventi qualche volta ci siamo riusciti a coinvolgerli effettivamente altre volte meno però allora alla fine ce l'hanno fatta hanno creato la famosa 167 gang che ha un successo nazionale hanno un contratto con la Sony nonostante alcuni di loro sono agli arresti domiciliari sono andati in carcere hanno delle difficoltà con la giustizia però c'è un altro risvolto che è il pregiudizio sociale a Malnate c'è un forte e dico Malnate perché voi l'avete citato come esempio però è così ovunque perché anche l'altro giorno all'incontro di Restart parlavano di San Siro di Milano ma a me sembrava di sentire parlare di Malnate c'è un fortissimo pregiudizio della società in generale quindi questi ragazzi che si ritrovano lì a fare semplicemente i video tutte le volte gli abitanti mi chiamano sindaco stanno facendo un casino io vado lì e vedo che stanno facendo le registrazioni e tra l'altro fanno le registrazioni in silenzio totale chiaramente eppure la gente si lamenta alla sera loro si ritrovano lì bevono una birra chiacchierano ma non fanno niente e chiamano i carabinieri 112 tutte le volte allora c'è un pregiudizio un pregiudizio che ha fatto scappare quei negozianti che c'erano sotto i portici e io stimo molto invece il pizzaiolo che ha deciso di andare lì ad aprire la pizzeria ma è difficile abbiamo voluto inserire lì il centro del sistema bibliotecario proprio perché la cultura in primis ma altro non si riesce le associazioni scappano si fa fatica perché c'è il pregiudizio noi a Malnati abbiamo istituito ormai nel 2012 se non ricordo male il patto educativo di comunità e spesso ci interroghiamo su queste realtà ma è difficile adesso questo inverno o meglio primavera estate io ho voluto convocare il patto e dirgli noi abbiamo una grande emergenza con gli adolescenti dobbiamo fare in primis prevenzione e poi dobbiamo cercare di stare al livello dei giovani e aiutarli come possiamo fare e allora abbiamo istituito dei tavoli dei sottotavoli a seconda delle fasce d'età per cercare di capire qual è l'esigenza territoriale però il problema è che mancano sempre i giovani cioè il contatto diretto noi possiamo come diceva prima Carcano dire e diventare magister ma non è la soluzione bisogna scendere al loro livello capire e sentire la loro voce a partire dai ragazzi e devo dire che il progetto Restart che è stato fatto tra Varese e Malnati ha avuto un grande successo io sono molto contenta abbiamo fatto martedì una giornata di confronto dove appunto si è raccontato del progetto Restart ebbene a Malnati ha avuto grande successo ci sono stati tanti giovanissimi adolescenti che sono stati avvicinati e gli educatori sono diventati credibili agli occhi di questi ragazzi tanto che in una situazione di emergenza questi ragazzi hanno chiamato il 112 e gli educatori quindi io gli ho fatto i complimenti ho detto chapeau perché siete riusciti a incidere diventare insegnanti nel senso vero incidere il loro animo siete riusciti a diventare credibili ai loro occhi tanto da chiamare da essere chiamati in una situazione di pericolo per primi neanche la mamma neanche il papà il papà è vero quasi sempre assente e quindi dobbiamo lavorare in questo in questo solco ma non è facile non si parla o si parla troppo spesso di fondi ebbene a malnate la spesa corrente maggiore l'abbiamo sul sociale tantissimi fondi i fondi spesi bene direi però per l'allontanamento dei ragazzi sono tantissimi e questa è un'emergenza io faccio parte dal 2016 del tavolo del garante regionale e questa è una problematica trasversale a tutti i comuni uno i fondi e due il problema degli adolescenti io credo che se iniziamo a sgravare i comuni di quei fondi che sono destinati a curare lui l'ha detto prima curare la situazione sociale se noi mettessimo allo stesso livello la cura sociale della famiglia con la cura sanitaria non per stigmatizzare ma perché vuol dire che in quella famiglia c'è un malessere allora se il malessere c'è non è il comune che se ne deve fare carico a livello di fondi ma lo Stato perché dobbiamo poter invece noi comuni usare quei fondi per fare prevenzione spesso e volentieri noi comuni poi non abbiamo fondi per fare la prevenzione allora meno male che ci sono i progetti come Restart che ci danno una grande mano un grande aiuto ma come facciamo noi comuni a fare prevenzione e l'altra cosa che vi voglio chiedere è questa fare formazione agli assistenti sociali agli apicali dei comuni siete voi che dovete fare formazione perché spesso quando si parla di prevenzione sembra questa cosa astratta che non si capisce bene che finalità ha si va bene facciamo il progettino diceva prima Don Giuseppe si fa il progettino però è fine a se stesso e no la prevenzione deve essere un percorso che nasce e continua scusatevi io non dimenticherò mai le parole di un ragazzo che ho ascoltato involontariamente un giorno in treno ero con mio marito e stavamo andando a Milano c'era un adolescente poteva avere 15 anni circa grazie e questo ragazzo era si vedeva no maranza dite voi e a un certo punto arriva un altro ragazzo ehi bello lì e comincia a parlare a voce alta e io ero lì che ho ascoltato tutto il tempo lui era un ragazzo del comasco viveva in una situazione di grande difficoltà familiare dove ancora una volta il papà completamente assente una mamma protettiva ma protettiva nel senso sbagliato e lui era appena uscito dal carcere era da qualche settimana fuori e ha detto non vedo l'ora di rientrare perché lì mi sono sentito a casa io volevo piangere in quel momento ma che fallimento sociale è questo vuol dire che noi comuni scuole educatori abbiamo fallito completamente cioè se un ragazzo lo diceva prima Dalia io in carcere mi sentivo bene perché avevo degli adulti intorno a cui ho dato credito allora c'è un fallimento sociale io credo in questo momento di noi adulti dobbiamo instaurare di nuovo quel rapporto sano e di credibilità che purtroppo non c'è e l'altra frase che mi è piaciuta molto in cui mi sono ritrovata è stata quella detta all'ex ministro Cartabia quando io incontro i ragazzi spesso li incontro uno a uno gli dico dai andiamo a prenderci un aperitivo e un giorno eravamo al Sartorelli io Edoardo e Matteo e abbiamo parlato chiacchierato tra l'altro due ragazzi meravigliosi ma veramente meravigliosi che però si stanno perdendo e non riusciamo a recuperarli a un certo punto Edoardo mi dice sindaco ma lei fa così con tutti ma perché fa questa roba ma davvero lei incontra i ragazzi ma perché fa questa cosa è difficile è difficile perché bisognerebbe ricreare quella comunità in cui ognuno si senta responsabile dei ragazzi in difficoltà per esempio il progetto affido dove è finito possibile mai che non riusciamo a trovare genitori affidatari dove sono i genitori affidatari possibile che la comunità non si renda conto che i figli sono i figli della comunità di tutti non sono figli solo nostri i nostri ragazzi poi vanno nel mondo nel bene e nel male possono diventare medici educatori sanitari ma ci sono dei ragazzi che sono perduti e noi è compito di tutta la comunità aiutarli perché poi quei ragazzi lì sicuramente hanno dei talenti che possono sviluppare e come facciamo allora questa giornata qui credo che mi rimarrà impressa per sempre perché finalmente vedo un tavolo di confronto sincero dove chi ha vissuto si mette al nudo e dice dobbiamo rimboccarci le maniche tutti e dobbiamo lavorare io voglio fare i complimenti al prefetto perché lo dico sempre è speciale il nostro prefetto sin da subito ha chiesto a noi sindaci quali sono i bisogni e questo è stato uno dei bisogni prioritari che noi abbiamo espresso quindi lo ringrazio sinceramente e rinnovo l'invito venite alla 167 finita la riunione organizziamo l'incontro perché ci tengo tanto grazie è vero il pregiudizio è certamente una difficoltà enorme io ricordo di essere stato con uno dei ragazzi di Malnate l'ha portato a fare una testimonianza in parrocchia a Malnate un paio di anni fa e mi ricordo dopo questo incontro la sua insegnante di scuola media penso dopo si è soffermata e ha detto io non sapevo tutte queste cose che tu adesso hai raccontato quindi ti chiedo quasi scusa non lo capivo non l'avevo capito prima e lì anche lui è riuscito a ritrovare un rapporto con questo insegnante cioè allora che cosa vuol dire questo che bisogna mettere in contatto questi ragazzi col mondo adulto col mondo delle istituzioni prima ho citato Mattia Mattia non è un santo lo sappiamo quindi non è che tu dici perché uno dice vabbè lo portiamo a fare testimonianze nelle scuole uno dice eh beh vediamo però secondo me invece va portato in certi contesti cioè per esempio facciamo un esempio invitare lui in una mattina di queste può essere interessante perché comunque il dato di realtà ce l'ha bene in mente poi magari arriverà con delle richieste improponibili eccetera però come dire secondo me bisogna ascoltare il territorio ascoltare questi ragazzi dare voce a loro perché poi siano loro a suggerirvi poi con la chiaramente con la capacità adulta di leggere i problemi siano diano loro suggerimenti a voi uno studio di registrazione è chiaro non è una cosa da poco però noi non l'abbiamo neanche chiesto ce l'hanno regalato in comunità come mai? perché chi ce l'ha regalato una casa discografica è importante e ha investito tantissimo per quello studio ha visto il lavoro che noi abbiamo fatto con i ragazzi nella musica al di là dei risultati delle classifiche eccetera ma allora cosa vuol dire che se comunque si lavora con i ragazzi dopo gli aiuti arrivano magari non da parte dello Stato magari a qualche fondazione qualche azienda di settore però se c'è se c'è un po' un protagonismo sano dei ragazzi io penso che poi su San Siro che è veramente un delirio ma io non ho chiesto niente non ho aderito a nessuna a nessun bando ma su ogni progetto puntuale i soldi sono arrivati senza neanche chiederli cioè non è vero c'è molta solidarietà in giro c'è molta attenzione siamo noi che dobbiamo portare un po' alla luce e far conoscere anche questi progetti a volte iperbolici dei ragazzi loro poi lo studio se lo stanno costruendo pian pianino in una sottocantina se appunto probabilmente sai dove e quindi va bene pian piano poi loro in qualche modo arrivano però secondo me ecco vanno sostenuti perché poi attorno a loro è come dire adesso diciamo così preso Daniel al beccaria dieci anni fa avevo preso tutto al beccaria cioè dipende devi andare a individuare i leader e dopo è più facile quindi questi Matti e l'altro sono i leader magari in negativo ma sono i leader vanno qui non è trattativa attenzione però però bisogna in qualche modo intercettarli finché si può perché poi sono loro a portarti se io devo dire chi è che mi ha fatto entrare a San Siro dove non entri non entri in certi cortini i ragazzi i rapper del quartiere sono loro che mi hanno chiamato sono loro che mi hanno aiutato sono loro che collaborano io con loro e loro con me per ridare un minimo di dignità ai ragazzi del quartiere quindi ecco vanno tirati dentro non so in che forma ma per esempio portandoli anche a far conoscere alle famiglie in parrocchia piuttosto che invitandoli a parlare questo la narrazione come diceva Daniel è fondamentale perché siano loro a dirvi come la vivono loro ecco grazie a voi lasciamo spazio agli ultimi due interventi il primo Elena Fumagalli che lavora nell'ambito della giustizia qui a Varese e poi mi sembra di un volto noto Ballerio allora io mi presento sono Elena Fumagalli ho fatto il Ferraris nel presentarmi devo dire prima di tutto che sono un'ex parrocchiana di Don Beppe quindi gioco un pochino in casa sono un'ex parrocchiana non perché sono uscita dalla chiesa e dalla comunità ma perché la curia mi ha portato via Don Beppe e poi vabbè dal punto di vista professionale io sono un magistrato e da circa un anno e mezzo sono tornata al tribunale di Varese dopo una parentesi di 16 anni come giudice del lavoro sono tornata al tribunale di Varese dove fino al 2015 avevo anche trattato la materia della famiglia io sono un modesto giudice civile dico modesto giudice civile perché imparo da voi quello che è tutto ciò ho un'amica che è magistrato in sorveglianza ho tanti colleghi del penale però io l'ho fatto pochissimo per cui mi sento un uditore qualunque non ho la pratica di quello che avviene nell'ambito penale quindi sono un giudice civile sono tornata al tribunale di Varese come presidente della sezione famiglia e dopo 16 anni io ho trovato dicevo la famiglia tutto sommato la normativa a parte adesso la riforma cartabbia è la medesima ho trovato la rivoluzione copernicana cioè la famiglia non è più la famiglia che gestivo una volta era anche una materia facile se vogliamo il giudice civile della famiglia usava un po' di buonsenso poche regole tecniche non era certo come fare una causa di diritto bancario lo dico col tremore sono allibita di quello che vedo nei miei fascicoli perché c'è la crisi della famiglia appunto il malessere della famiglia e su questo dobbiamo riflettere nel senso io mi sono permessa di salire Don Beppe poi mi conosce non sono certo una che si mette in mostra ma volevo dire questo stiamo parlando di 167 stiamo parlando di quartiere San Siro eccetera ma io vedo che i danni si possono creare con bimbi di due anni che assistono caso di ho depositato oggi un provvedimento bimba del maggio del maggio ha già assistito di tutto e di più ho mandato i genitori al CERT viene fuori uso di cocaina gli insulti sui whatsapp che mi producono in giudizio da aver vergogna allora quello che mi sento solo di dire il disagio viene anche dalla famiglia di tutti i giorni questi genitori nel momento in cui si infrange qualcosa quando iniziano a litigare perdono completamente le staffe hanno in mente solo il loro litigio e i figli diventa lo strumento con cui farsi la guerra quindi volevo solo dire questo l'esperienza delle famiglie di tutti i giorni mi è capitato ogni tanto di andare a fare lezione di legalità mi piace molto andare alle scuole elementari perché poi porto la toga allora faccio vedere e dico io sono il giudice perché indosso la toga perché nel momento in cui io giudico non sono più la Elena sono un altro soggetto sono colui che rappresenta lo Stato e che con imparzialità deve giudicare senza che ti conosco senza e allora mi guardano e poi dopo di che tolgo la toga e dico bambini io sono qui a insegnarvi a dirvi qual è la mia esperienza però ricordatevi una cosa guardate che io sono meno importante della maestra Cristina che c'è qua di fianco al che loro saltano per aria come? più importante il giudice della maestra Cristina no non è più importante il giudice siete più importanti voi so che c'è tanta gente della scuola gente scusate insegnanti siete più importanti voi perché come diceva il nostro maestro Giovanni Falcone è dall'educazione che noi facciamo crescere dei buoni cittadini nel momento in cui la scuola vacilla la famiglia si perde via in altre cose non hanno più il punto di riferimento non hanno più altro che coscienza appunto quindi volevo solo dire questo la quotidianità Renata Ballerio insegnante di lettere dirigente scolastico per qualche anno concludiamo con un intervento scolastico pochi istanti infatti volevo passare quasi anonima e vabbè la conosco posso dire grazie mi fa piacere qualche memoria no posso avrei tante domande tante domande ovviamente ma voglio tornare a casa te ne concediamo una ma non so neanche se la faccio bisogna essere molto bravi a fare le domande torno a casa con tante parole nel cuore ovviamente perché l'attesa l'essere autentica ma anche una parola che a volte mi viene un po' trascurata che è quella di gratitudine e voglio essere anche provocatori in che senso mi sento di andare a casa con la gratitudine perché si parla sempre sempre di disagio giovanile ma il disagio degli adulti che sono sberriti confusi a volte si dimentica io anche in questo momento ho disagio ma è un disagio come dire costruttivo perché meno male perché di domani non c'è certezza sappiamo Montale eccetera ma qualche volta non essere dentro la maschera di false certezze sarebbe una provocazione giusta da fare e come e devo dire quindi vado a casa con la gratitudine con il senso dell'attesa la ringrazio tantissimo perché vabbè sono stata sgamata anch'io di essere stata sia docente allo scientifico Ferraris sia dirigente scolastico ma preside eccetera il senso dell'attesa che non è quello burocratico che ti fa proprio beh posso dire anche le parolacce non le dico ma insomma tanto ormai sono in pensione sono anche molto più libera mi scusi so che l'ho anche scritto il senso dell'attesa vuol dire tante cose che non è anche qui il discorso domani sarà migliore la speranza che ci deresponsabilizza sul presente ma è quello invece di dare la forza l'energia per andare avanti e in tutto il tempo sarò breve sarò breve già parlo in fretta ma sarò breve ho sentito dentro di me come un mantra una frase di Luigi Santucci era in quel libro magari non è il più bello che ha scritto per carità non sparate ai Narcisi dedicato al 68 ma è quello a un certo punto Don Baldo guarda a caso che è qui un sacerdote un po' a un certo punto no quello è nell'altro romanzo comunque dice fondamentalmente i giovani non ce l'hanno con il passato ma ce l'hanno con il presente e anche lì ritorna un concetto molto importante ce l'hanno contro il mercantilismo commerciale e ce l'hanno con la superstizione cattolica ancora una volta il senso dell'autenticità per cui anche l'autenticità va nelle parole oggi si abusa di parole come comunicazione che vuol dire semplicemente ma fortemente intensamente mettere in comune e mettere in comune anche il coraggio delle fragilità che credo sia importante e l'altro lo dico al dirigente che poi mi anche cavone perché poi non l'ho neanche avuto come dirigente per cui che è quello dell'organizzazione che a volte sia il mito dell'organizzazione ma se l'organizzazione diventa soltanto un fatto burocratico ma non una missione al servizio dei veri bisogni credo che sia e il bisogno non è perché in questo momento se uno mi chiedesse che cosa ho bisogno ho bisogno di un panino perché non ha fame terribile no l'ho detto sinceramente ma è quel bisogno profondo quindi vi ringrazio era solo per quello ah la domanda la domanda la domanda la butto là così senza risposta la lasciamo aperta ma sì perché dobbiamo tenercela anche dentro a volte perché io credo che anche avere il coraggio di non dare risposta a tutto di non fare domande sbagliate ma di avere il coraggio di inquietarci e di essere al disagio ma chiedo scusa la domanda è questo il bullo non è un delinquente sempre e non è detto che diventi un delinquente forse questo va ricordato per imparare a non giudicare basta chiedo scusa grazie beh per questo dovete comprare il libro prima di tutto ecco andiamo sul pratico dimmi tu Beppe come vuoi chiudere io vorrei concludere con i ringraziamenti ringraziamo questo tavolo ringraziamo anche il premio Chiara logicamente ecco la cultura si può star bene il star bene non è detto di avere subito il panino anche questo ma vuol dire anche pensare quello che è che è nato dentro di noi trovare delle soluzioni verificare e cambiare anche il nostro modo di essere ecco questo è importante e il libro serve proprio anche per prenderlo per lui lo firmerà farà la prima copia i libri ci sono per leggersi qualcosa di reale perché oggi abbiamo fatto un evento con un libro effettivamente che ci ha accompagnato una cosa solo volevo chiederti Daniel lo scrittore come è arrivato a fare questo libro l'hai fatto tu con lui lui con te dimmi un po' come è arrivato no ha letto la mia storia sul giornale perché era uscita una foto in cui mi sono laureato ed è venuto a trovarmi in pubblico ministero ha partecipato alla mia laurea e niente lui si è incuriosito e mi ha detto ma ti va se facciamo un libro sulla tua storia e io adesso dissi la casa editrice era d'accordo ecco lui oggi non poteva venire perché l'avevo invitato però non riusciva a venire ringraziamo innanzitutto Don Claudio tante cose vere tante cose giuste e questo ero sicura che nasceva da un tavolo di questo genere il proficco di portare avanti determinate cose non bisogna avere la costanza la ringrazio poi di essere qui di essere presente avevo conosciuto diciamo Don Pepe vero giusto che vi confonde le cose e invece una parola diciamo giusta di chiusura dal nostro prefetto ho detto nostro magistrati anche io mi sono molto arricchito oggi di tante riflessioni molto opportune e che vanno nella direzione di darci delle indicazioni concrete su come operare insieme si è parlato di autorità anche qui volevo fare come lei Don Claudio un ricorso al latino che dice l'autorità arriva dal termine latino augere che significa far crescere quindi siamo tutti impegnati nell'accompagnare i ragazzi a crescere nel modo giusto ascoltandoli naturalmente come si è detto oggi ma comunque non rinunciando a dare quello che noi sappiamo possa essere giusto perché io sono d'accordo che sono i ragazzi che devono essere protagonisti e noi dobbiamo metterli nelle condizioni di sentirsi dei protagonisti però non dobbiamo neanche rinunciare a svolgere un ruolo di guida perché siamo quelli che ne sappiamo un po' di più abbiamo esperienza abbiamo fatto più errori di loro e quindi anche metterli in guardia rispetto alle insidie che ci sono è anche un nostro dovere e poi ecco volevo chiudere anche io citando il cardinale Rabazzi perché in questo incontro di di Luino lui poi ha fatto questa riflessione del del magister del minister però ha detto sono quattro i concetti importanti che sono poi una fase della nostra vita diciamo dal punto di vista cronologico ma sono anche una fase cioè sono anche dei momenti contemporanei della nostra esistenza giorno per giorno e cioè il fatto di essere maestri alunni discepoli discepoli poi il fatto di essere maestri poi ho fatto l'esempio del bosco o del deserto nel momento in cui dobbiamo anche ritirarci riflettere su noi stessi rimborsarci e poi diciamo la fase più bella che è quella del mendicante cioè ognuno di noi poi deve chiedere cioè mettersi vicino ad altri per ascoltare per recepire per chiedere e per camminare insieme e questo mi ha molto colpito soprattutto perché appunto lui l'ha impostata come un progredire temporaneo della nostra vita si passa da una fase all'altra però anche come contestuale momento di tutte e quattro le fasi in ogni circostanza della nostra vita quindi anche io sono molto grato a Bambi Lazzati perché ha voluto inserire nelle varie iniziative del premio Chiara anche un momento di riflessione su un protocollo che io ho solo il merito di aver contribuito a diciamo a realizzare ma soprattutto con l'aiuto di tutti gli altri e poi per questa riflessione con degli ospiti esperti e sicuramente maestri e quella è la cosa più bella è la cosa importante tu hai fatto il protocollo e noi abbiamo nel premio Chiara il bisogno che c'era di parlarne perché la cosa importante è parlarne vedere arrivare e con chi puoi parlare con qualcuno che sa per cui sempre cerco poi magari qualche volta sbaglio però sempre cerco di avere delle figure professionisti che fanno è il loro racconto la loro vita è il loro andare avanti e grazie a voi di essere qui oggi di sabato mattina però un bel giorno un bel giorno e per cui andate pure a fare la passeggiata a mangiare il panino a mangiare il panino a fare la passeggiata grazie e a pensare alle cose giuste che poi viene fuori pian pianino vero? ok vero Don Claudio pensando poi dopo si hanno degli aiuti perché effettivamente quando ci sono dei bambini piccoli che ancora adesso che adesso ancora cioè non riescono tanto a parlare con i genitori si danno tre calci al pallone bisogna cercare di che questi calci qui siano giusti non siano calci il bambino gioca ha bisogno di giocare di vivere non di dare del calcio al suo amico per farlo cadere o per fare fallo e questa è la cosa anche da lavorare soprattutto in tutta questa situazione di sport che non è più lo sport diventa competizione questa non deve essere deve essere lo sport anzi di dire Giovanni cavoli che bel gol che mi hai fatto non sono riuscito a pararlo ma non dovevi Giovanni butta giù il Giovanni perché devi farlo cadere questa è un po' la realtà parleremo anche di sport in questo caso perché c'è bisogno c'è bisogno di aiuto grazie a voi grazie questo qui è per don Claudio a firmare il libro questo qui è per questo qui è per